Sono le quattro e già il momento di moda curvi e abbigliamento Utilizzeremo compagnia di rette e di pura follia Quanto si vede di morbidi passi e di denizio in tutti pazzi E rimanete soddisfatti, siamo la maglia di matti Perché sei bello e affascinante di rompente stravagante, sì, tu Perché sei bello e affascinante di rompente stravagante, bene, io E c'è Carlito, c'è Carlito, c'è Carlito, c'è Carlito, sì, giù E c'è Carlito, c'è Carlito, c'è Carlito, c'è Carlito, yeah, io Quindi vestibici affluenza, per questo crea dipendenza E quando compri poi conferma, se notizia non si ferma E non ti puoi dimenticare, tu condividi per sognare Il pacco è pronto e già si spera, Stefano single questa sera Perché sei bello e affascinante di rompente stravagante, sì Perché sei bello e affascinante di rompente stravagante, bene, io E c'è Carlito, c'è Carlito, c'è Carlito, c'è Carlito, yeah, io E c'è Carlito, c'è Carlito, c'è Carlito, c'è Carlito, sì, io Il 4 è già il momento, continuo da curvi e abbigliamento Per vi terremo compagnia diretta e di pura follia Consigliere i morbidi passi e di beni sono tutti passi Non rimarrete soddisfatti, siamo la cambia di Marti Perché sei bello e affascinante di rompente stravagante, sì, tu Perché sei bello e affascinante di rompente stravagante, bene, io Buon pomeriggio ragazze, benvenute in questa nuova puntata di Morbidi Passi, ciao Silvia, ciao Denise, ciao Tiziana, ciao morbido, anche Stefano. Ciao ragazze, benvenute anche oggi nella nostra diretta del martedì, allora Carlo, che diciamo di questa novità, questo cambiamento nelle dirette, io ne ho già parlato un po' nel preview, abbiamo cambiato un po', come si dice, la disposizione delle dirette? No, non è vero, abbiamo solo aggiunto una diretta in più il mercoledì pomeriggio, dedicata ai saldi e agli accessori ragazze, ok, bellissima, oddio, ha già cominciato, allora, attenzione ragazze, perché tutti i mercoledì alle ore 16 avremo diretta esclusiva per i saldi, ok, outfit, accessori, bravissima. Facciamo, c'è una richiesta pazzesca di accessori, cinte, borze, collane, bellissimo, cerchietti, facciamo adesso cerchietto, se no questa non la finisce più, occhiali da sole, poco fogli, ragazze, guardate, guardate Denise, che outfit molto audace, voglio andare via, una principessina che sorride come un camionino. Una principessina un po' troppa, un po' diciamo comoda. Ma no, una principessina da scaricatore de porto. Ma diciamo un po' dalle forme comode, se non è bella. La principessa Corbi? Certo, ma tu ce l'hai la faccia da principessa? Allora, un saluto a Oriana, Fiorella, Katia, Elisabetta, Rita Ariante, ciao Rita. Ciao ragazze, noi siamo cresciute subito subito, abbiamo già superato i cento persone, i cento venti. Ricordiamo le nostre cose importanti? Certamente. Allora ragazzi, come sempre, mi prendo due minuti di serietà per spiegare alle nostre nuove amiche chi ci sta guardando per la prima volta, chi siamo e che cosa facciamo. Allora, noi siamo quelli di morbidi passi, ci troviamo ad Aprilia in via Giuseppe Verdi 69, siamo aperti ogni giorno da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 e 30. La domenica e lunedì mattina siamo chiusi perché facciamo i nostri acquisti settimanali per il negozio, ne approfittiamo insomma il fine settimana. Allora, se ci volete venire a trovare, vi chiedo sempre di mandarci un messaggino anticipato perché se venite da lontano soprattutto, ok ragazze, mettete che in caso c'è una variazione negli orari, almeno così siamo tranquille. Perché ormai ci vengono a trovare in Salerno, guarda da un sacco di posti diversi, veramente anche molto lontano e vi ringraziamo naturalmente per questo. Anche da fuori Italia? Sì, beh da fuori Italia sì, vabbè è venuta a Mariella dalla Svizzera, vabbè sì, vabbè per cose sue però ci è venuta a trovare. Allora ragazze, cosa facciamo nelle nostre dirette? Queste sono delle dirette di vendita online, quindi noi siamo specializzati nella nostra linea Curbi. Curbi significa partire da una 46-48 in su fino a circa una 60, però stiamo cercando da qualche diretta a questa parte di venire incontro anche alle nostre amiche, quindi un pochino più piccoline fisicamente intendo, quindi tagli un pochino più basse, di poter proporre anche qualcosina per loro. Magari anche abbinato lo stesso... Sì, ci stiamo riuscendo, abbiamo dei capi che coprono sia la linea Small che Curbi. Quindi diciamo da che taglia a che taglia Silvia per essere più precisi. Carlo possiamo, in alcuni articoli riusciamo a partire da 42-44 fino alla 56, magari 54, a seconda degli articoli. Ottimo. Comunque mano a mano che noi faremo vedere i nostri articoli diremo le misure, le taglie e quant'altro per essere più chiari possibili. Allora per poter acquistare nelle nostre dirette è molto semplice, quando vedete un articolo che vi piace, semplicemente prenotatelo immediatamente, direttamente su Facebook o Instagram, nel momento in cui lo vedete. Ok? Benissimo. Passo successivo, ma molto importante per noi, è quello che voi ci mandiate la conferma su WhatsApp, al numero che vedete alle mie spalle, 3-8-23-21-430, perché se siete delle nuove amiche, che non siete registrate presso di noi, presso il nostro numero WhatsApp, che significa che se non ci arriva la conferma su WhatsApp, noi non abbiamo modo di potervi contattare e portare a termine il vostro ordine. Bene. Allora, modalità di pagamento. Praticamente potete utilizzare tutte le forme di pagamento disponibili. Il costo è di 6 euro se pagate anticipatamente con PostPay, bonifico, Paypal, mentre 8 euro se fate il pagamento in contanti al Corriere. Attenzione però, al di sopra dei 50 euro la spedizione è totalmente gratuita, a prescindere dalla tipologia di pagamento che voi utilizzate. Ragazzi, devo essere sincera, per aiutarci a lavorare meglio, noi lì dove è possibile chiediamo il pagamento anticipato. Perché? Perché comunque sono le dinamiche delle vendite online che ci fanno lavorare meglio in modo più veloce, più spedito, e ci vanno a crescere i soldi anticipatamente. È un modo per riceverli anche prima rispetto magari ai giorni che servono. Più di 15 giorni, ragazze. No, oltre i 20. Oltre i 20 giorni. Per essere sinceri e per spiegare. Ragazzi, senza mettere in difficoltà nessuno, qualora voi possiate, ci aiutate a crescere. Ma soprattutto le ragazze che sono nostre clienti, che ci conoscete. Esatto. Noi veramente cerchiamo di dare un servizio top e di essere velocissimi. Esatto, grazie Carlo. Infatti è così. Allora, poi, non sostituiamo la merce in saldo. Questa è un'informazione che diamo già da un po' di tempo. Fate attenzione, ragazzi. Quindi, siate sicure quando fate il vostro acquisto, perché la merce in saldo, ripeto, non la cambiamo. Così come non facciamo i rimborsi. Quindi, facciamo tutti i tipi di cambio senza nessun problema. Chiaramente il costo del cambio è a vostro carico. Ci occupiamo però di tutto noi, però non restituiamo, non rimborsiamo i soldi. Ma questa ormai, diciamo, è una cosa abbastanza, tra virgolette, normale. Poi, ultima cosa, ma anche piuttosto importante, direi. Allora, dal momento in cui adesso abbiamo anche cominciato a fare la terza diretta, diamo a maggior ragione la possibilità a voi, amiche e clienti, di aprire un pacco, che ne so, inizio settimana, anche semplicemente prenotando la merce con le foto che noi pubblichiamo costantemente sui nostri social, e poi poter chiudere il pacco, non dopo la prima diretta o magari dopo la seconda, ma addirittura a fine settimana. Quindi avete tutta la libertà e la tranquillità di poter vedere tutte le foto pubblicate di un'intera settimana, lettere dirette, quindi se è dell'abbigliamento degli accessori e quant'altro, e quando si arriva il venerdì, ragazze, noi diamo la conferma, come al nostro solito, di tutta la merce con foto e prezzi, e si chiudono i pacchi. Riceviamo, dobbiamo chiaramente ricevere i vostri pagamenti quel giorno lì, quindi il venerdì, e dopodiché ci adoperiamo per far partire tutto. Questo è un nostro nuovo modo di lavorare e lo stiamo già utilizzando da diverse settimane, sono già due o tre settimane che stiamo lavorando in questa maniera, testimoni Tiziana, Carlo, Denise, ci stiamo trovando benissimo. E credo che anche per voi è una piccola agevolazione. Detto ciò, anche per oggi, il sermone è terminato, andate in pace, fare benedizione. No, però ragazze, meglio essere chiari, in modo tale che chi è nuova ha ben presente, insomma, la tipologia della nostra dieta. Ragazze, detto ciò, abbiamo superato le 100 persone. Io direi di cominciare, che ne dici Carlo, vogliamo cominciare? Vai, partiamo col primo outfit. Sì, mettiamo un po' di musica, facciamo sfidare questo abitino carinissimo. Vai, venite, faccio un po' di posto, prima che qui... Aspetta che... Arriva, eh? Arriva, arriva. Io intanto mi prendo due misurine. Niente, quando vuoi una cosa veloce, non c'è mai. Eccola. Ciao, Elitati. Vai, venire, rende col te, vieni a scappare. È particolare questo desiderio, ragazza, eh. Allora, Carlo, oggi partiamo alla grande, mi sento calma, perché tutta questa babbella, primaverina, cominciano i colori, finalmente che cominciamo a uscire da questa... Subito, prezzo vestito, già cominciano a... Che cosa? Prezzo vestito. Subito. Vai. Partiamo con il prezzo che è di 29,90 euro. Io ho approfittato per prendere subito le misure, ragazze, questa è una via di mezzo. Qua partiamo con un articolo che può vestire tranquillamente anche una linea smone, perché è un tessuto comunque elasticizzato, un chiffon, e arriviamo a un massimo di misure di 120 di seno, 120 di girovita e 140 di fianchi. Quindi, Carlo, se vuoi segnare, seno e vita 120, fianchi 140. Prezzo 29,90 euro. Adesso vi faccio vedere i colori. Eccoli qua. L'arancio e il verde militare. Uh, sì, guarda, c'è la... come si dice? È un po'... È un po' elettrico, sì. Allora, i colori a disposizione sono quattro. Quello che indossa Denise, che è un arancio verde militare. Poi abbiamo il colore, eccolo qui, con il blu. Poi abbiamo... no, il blu. Chiamiamolo verde, perché blu, eccolo qua. Quindi arancio verde, poi abbiamo il fucsia e il blu. Ragazzi, come dicevo, per esempio, qui partiamo con un articolo che abbraccia sia la linea small, sia la linea curvy. Perché qui possiamo tranquillamente, lo può indossare anche chi ha una 42... Ci chiedono il tessuto, se puoi aiutarci. È uno chiffon. Anche chi ha una 42-44, fino a un massimo di Denise, che è una 54, come vedete, ha un'ottava di seno. E come dicevo, ragazze, 120 giro seno, 120 giro vita e 140 giro fianchi. Perché questo tipo di abiti, naturalmente, non abbiamo di solito mai problemi per quanto riguarda i fianchi. L'ampiezza. L'ampiezza, esatto. Allora, Denise, io direi di andare avanti, ok? Vai. Cominciamo con il prossimo outfit. Ragazzi, perdonatemi, ma andiamo veloci, perché abbiamo tante, tante novità. Poi faremo dei remail durante verde. 46 per Oiana Trafficante. Grazie, Oiana. Grazie. Eccoci qua. Allora, vediamo un attimo come mi posso mettere. Mi metto così, come stava l'ampagione. Tanto non mi serve, sto vicino. No, 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 domani. Non voglio perdere tempo per... Sì, si, appende da dove vuoi. Vai tranquilla. Allora, uh, si è chiusa una diretta, vabbè. Voi leggete tanto. Sì, sì. Ok, perfetto. Allora, ragazze, dicevamo, arancione e verde militare. Blu, fucsia e volendo su ordinazione anche il verde che è andato via in questo momento. 29,90 euro, ragazze. Oggi abbiamo tanti abiti, tanti outfit nuovi. Tante cosine veramente, veramente belle e sfiziose. Aspettate che io mi sto riaprendo la diretta, che mi si è chiusa. Allora, vi ricordo, primo outfit, ragazze, molto carino, in chiffon. Vestibilità fino alla 54, 56. 54, che è la vestibilità di Denise. Tanto abbiamo dato le misure, ragazze, così. Quattro meravigliosi colori. Allora, intanto vi faccio rivedere. Ci chiedono se questo vestitino si potrà trovare anche nei prossimi giorni. Ragazze, non lo so, perché dipende dalle vendite. Questo è un articolo che noi chiamiamo modelli continuamente. Siamo sempre aggiornatissimi, però non sappiamo mai la durata degli articoli, perché dipende dalla diretta, dal dopo diretta, perché noi non ci fermiamo mai, insomma. Quindi, eccoci qua. Grazie a Dio. Per fortuna. Quindi, arancio, fucsia e blu. E intanto rivolgo qui e mi preparo il prossimo outfit. Allora, passiamo al completo qui? Ok. Allora, io intanto mi organizzo. Che c'hai la camicia? Sì. Perfetto. Grazie, Fiorella, per le stelle. Allora, adesso passiamo al nuovo outfit. È composto da un completo, un tagliere, un brazer più pantalone. Il prezzo del completo è 49,90 euro. Abbiamo una vestibilità, direi, fino a un 58 euro. Giro seno, 132, fino a 156. Perfetto. Idem per i fianchi, Carlo, grosso modo. Sì. Per quanto riguarda, invece, il pantalone, girovita siamo a 88, fino a 146. Fianchi del pantalone, naturalmente, siamo a, vediamo un attimo, 136 fino a 168. Il prezzo, l'abbiamo detto, 49,90 euro. Ecco qui, e adesso vi procedo, vi faccio vedere i colori. Ciao Tiziana, ciao ragazze, scusate se non vi saluto, chiederò in privato. Va benissimo, Barbara, tranquilla. Allora, ragazzi, i colori disponibili anche qui sono ben tre. Abbiamo questo colore, diciamo, un po' più neutro, composto dal nero, beige e bianco. Poi abbiamo sulle tonalità del verde e sulle tonalità del blu. Ragazzi, avete visto che quest'anno è l'anno dei colori. Quindi, approfittate, sfizziamoci un pochettino con queste cose un po' più simpatiche. stiamo uscendo dall'invernata. Il tessuto, ragazze, per quanto riguarda il blazer, è una maglina di viscosa molto morbida, chiaramente elasticizzata. Il blazer non è foderato. Quindi è una sorta di blazer stile spolverino. Quindi comodo, senza bottoni, senza cerniere, bello, pratico. Giusto, Dini? Sì, sì. Allora, sì, sì. Senti, ma questo cerchietto gliel'hai procurato tu? No, queste sono le novità della diretta di domani. Vero, ti è piaciuto, dire la verità. Della diretta di domani. Lei l'ha visto e se l'è subito accaparrato. Allora, direi di la giacca, perché tanto l'abbiamo fatta vedere. E procediamo con la camicia. Perfetto, ragazzi. Vi ricordo che il completo sta a 49,90. Mi raccomando, blazer più pantalone. Esatto. I colori, per chi... Eccolo ce l'ho qui. Ah, sì, sì, ce l'ho qua. Per chi vuole... Ciao, Mariella. Ciao, ragazze. Benvenute a tutte. Scusate se non vi nominiamo una per uno, però... Ecco, in base a quando arrivano i messaggi. Allora, il nero, il verde e il blu. Perfetto. Allora, per quanto riguarda invece il camicione, il prezzo è di 24,90 euro. Il tessuto qui è cotone, ragazze. Come vedete, abbiamo il bottoncino nella manica laterale che si può tranquillamente allungare. Allora, abbiamo detto 24,90 il prezzo. Qui abbiamo tanta ampiezza, eh, perché siamo a un giro seno in circa 160 centimetri e un giro fianchi intorno ai 100... Beh, in grosso modo uguale, 158, 156 centimetri. Allora, i colori disponibili per quanto riguarda questa camicia in cotone, ragazzi, vi ricordo. Quindi, molto semplice, molto bella, però sicuramente è uno di quei capi che non manca mai, no? Perché è quella cosa semplice che nell'armadio uno dovrebbe averla sempre, per tanti abbinamenti, per tanti outfit. Allora, 24,90 i colori disponibili. Oltre, chiaramente, al nero, che lo vedete indossato da Denise, abbiamo il verde militare, abbiamo il beige, eccolo qui, poi abbiamo il celeste, il bianco, il lilla, e, chiaramente, il nero, che dicevamo se l'ha ripostato da Denise. Quindi, ragazze... 24,90 euro. Esatto, un bel camicione largo, comodo, una vestibilità tranquillamente fino a un 58 abbondante, manichina che si può, chiaramente, allungare, sciogliere e sbottonare e diventa una manica lunga. Modello particolare, però, molto... Ah, c'hai il... Il pro... Vedi? Cosa hai visto? Quando ti fai, io faccio così e così. Vabbè, ecco. Il prima e il dopo. Il prima e il dopo, esatto, esatto. Va bene, va bene. Ragazzi, allora, vogliamo andare avanti? Sì. Noi procediamo, vai. Vi ho messo le misure, ragazzi, se avete bisogno. Buon pomeriggio, Zizza. Ciao, benvenuta. Ciao, Valeria. Ciao, ragazze. Benvenute a tutte. Vedo che siamo tanti anche oggi. Allora, ragazzi, vi faccio rivedere i colori. Lilla, eccoci qua. Poi, bianco. Ecco qui. Il celeste. Sì, grazie, da me la vedo, lo appendo lì. Celeste, eccolo qua. Poi abbiamo il beige. Eccoci. Il verde militare. Ragazzi, vi ricordo che il tessuto è in cotone. Quindi un bel tessuto morbido, fresco, ottimo vestibilità. E poi il nero. Ciao, Mara. Questa penna però mi sa che ce l'ho io o ce l'hai tu? Ok. Ragazzi, va benissimo anche sotto un bellissimo leggings, eh. Potete portare questo maxi camicione. Ah, perché c'è questo vestito. Sì. Ok. Senti, facciamo così. Santissimo. Questa. Questa. Ce l'ho lì davanti. Guarda. Allora. Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Ci siamo persi per stare. Ragazzi, per chi si è appena connesso abbiamo fatto vedere solo due outfit. Siamo al secondo outfit. Adesso lo aspettiamo qualche minuto e poi li facciamo vedere. Attualmente è un maxi camicione. Sì. Un maxi camicione in cotone. Pinta unita. 24,90 euro. Abbiamo fatto vedere questo bellissimo tagliere. Eccolo qui in tre colori disponibili. 49,90 euro. Una vestibilità che può arrivare tranquillamente a una 56,58 euro. Abbiamo fatto vedere il primo abito molto bello con taglia unica. 120 di seno, 120 di vide e 140 di fianchi. 29,90 euro. Diversi colori disponibili. Anche il verde su ordinazione che ce l'abbiamo dietro. E poi adesso passiamo al prossimo outfit. Oggi c'è tanto spazio perché non essendoci gli accessori... Allora, ciao Irna. Benvenuta e nuova. No, prima ci devi mandare il messaggino su Facebook. E subito dopo mandi una chiamata, semplicemente, chiedo scusa, un messaggio di WhatsApp al nostro numero 338 2321 430. Quindi fai il tuo ordine, Irna, su Facebook. Mandaci il messaggino e poi conferma. Allora, Katia Lusso, abbiamo già messo la camicia verde militare da parte. E Irna ti rispondo al messaggio così hai il numero in sovraimpressione. Ok. Allora, adesso passiamo invece a un altro articolo che per noi è un prodotto pop. è una casacchina a canotta con elastico nella parte delle spalle dietro e pizzo sia nella parte alta che nella parte bassa. Abbiamo un giroseno di 140 circa, un girofianchi di più o meno 140 allo stesso maniere, una lunghezza totale, compresa la spallina, di 92 centimetri. Allora, ragazze, questo è un abito, noi lo chiamiamo abito sottoveste perché comunque con la spallina, insomma, fina così, con il pizzo sopra, il pizzo sotto, tessuto in viscosa, 19,90 euro. Eccolo qui indossato da Denise. Abbiamo diversi colori. Abbiamo il rosso, il bianco che è quello che indossa Denise. Poi abbiamo il fucsia, abbiamo il Tiffany, il verde Gucci, chiaramente il total black, completamente nero, sia il pizzo sia la parte in tessuto. E poi abbiamo la versione in blu. Ragazzi, stiamo parlando di un abito sottoveste. Come vedete, noi adesso abbiamo fatto un abbinamento con un blazer particolare. a 19,90 euro. Ecco qui. Allora, rosso. Eccoci qua, riassumo un attimino i colori. Il fucsia. Poi abbiamo il Tiffany. Il verde Gucci. Il nero. Verde Gucci per Rachele Paesani. Grazie, Rachele. Ragazzi, ricordo che questo è il nostro abitino sottoveste prodotto top. Sì, sì, sì. Molto sexy. Aggiorniamo i colori. Molto carino. Perché è molto bello. Anche blu, vedete? Ma bellissimo è anche il bianco. Anche il bianco. Eccolo qua, ve lo faccio vedere non indossato da Denise. Guardate che bello. Chiaramente sotto ci si può mettere qualcosa. Ciao Floriana. E' molto molto bello. Allora, io direi, facciamo vedere anche la giacca. Come ce l'ho la giacca? Eccola qui. Anche questo lo possiamo chiamare giacca. Questo è un blazer. È un blazer. Rosso per Francesca Trombetta. Grazie Francesca. Eccolo qua. Ragazzi, fate il vostro ordine perché questo è un prodotto ordinabile. Quindi, il rosso, il verde, no. Allora, ah sì sì sì, mi sembra di sì. Allora, bianco, fucsia, tiffany, il nero, no scusate, sì il nero, il blu. Scuro. E poi, volendo, su ordinazione, possiamo trovare anche il rosso e come si chiama l'altro? Verde Gucci. Esatto. Ok, 19,90 euro. Vi abbiamo dato anche le misure, se non ricordo male, circa 140 di seno, 140 di fianchi. Poi, passiamo invece al blazer. Il blazer che ha Denise indosso, come vedete questa fantasia un po' astratta che quest'anno sta andando tantissimo. Abbiamo un giro seno, un prezzo 24,90 euro. Giro seno, siamo a 138, 156 di giro fianchi. Invece, siamo a 130, arriviamo a 150 circa, grossomodo siamo lì. Lunghezza? Lunghezza, sì. Lunghezza? Lunghezza siamo a 74, 74. Perfetto. Allora, colori disponibili anche per quanto riguarda il nostro blazer. Abbiamo il nero e bianco, quello che indossa Denise, naturalmente. Abbiamo la versione con il blu, la versione con l'arancio, la versione col verde, il fucsia e il celeste. Eccoli qua. Sono uno più bello dell'altro. Naturalmente, ragazzi, avete anche la possibilità di abbinarlo magari con una camicia d'interno da sotto, mettendo un pantalone che magari ci richiama i colori della fantasia del blazer e si fa un altro tipo di abbinamento, insomma, ok? Anziché con un abitino sotto, come abbiamo fatto noi in questo momento, utilizziamo un'altra tipologia di outfit. Andiamo avanti? Vai. Perfetto. Andiamo avanti. Grazie di inizio. Come dicevo, oggi abbiamo tante cosine da far vedere. Oggi ci dedichiamo tutto sull'abbigliamento, quindi dobbiamo andare piuttosto veloce. Allora, qua nel prossimo facciamo la camicia? Sì, ok. Allora. La camicia è questa. Allora, terzo outfit della giornata, ragazze. Attenzione. Accomodatevi perché tanto ne avremo per tre ore. Sì, sì, oggi tante tante cose. Allora, mettoci qua. Ciao Anna, benvenuta. Ok. Allora, in quanto sei pronta, io intanto comincio con... Allora, Carlo, adesso presentiamo una tipologia invece di camicia che assomiglia molto allo stile dei blazer. Il prezzo della camicia è di 19,90 euro. Vi do subito le misure. Vai, 19,90. Siamo a 126,00 euro fino a 130,00 circa, per quanto riguarda il seno. Sui fianchi siamo a circa 134,138. Il prezzo di questo camicione è di 19,90 euro. Ragazzi, anche qui abbiamo la stessa tipologia. Cioè, nel senso, qui è una camicia comunque taglia unica che può essere tranquillamente utilizzata anche da chi è un pochino più piccolina. Perché comunque con una centina, con una catenella calata, insomma, con un bel leggins sotto, potete adoperarlo tranquillamente, anche se siete una taglia small. Allora, adesso la vedremo chiaramente indossata su Denise. Abbiamo diversi colori per quanto riguarda questo. Allora, Federica ci chiede, ma il top veste come un abito? Beh, effettivamente sì, è un abito. È un abito, perché guardatelo su di me, che sono un metro e 65, mi arriva praticamente, diciamo che gli supera il ginocchio. Dico che la lunghezza è esattamente 74, ragazze. Sì, sì, 74, però eccolo qui. Ragazzi, vedete, io sono un metro e 65, praticamente mi arriva il ginocchio, quasi lo supera. Poi chiaramente si possono regolare le bretelline, dalla parte dietro abbiamo l'elastico, però ovviamente è un abito, non è il topo. Leggi Federica Valenti, come ha scritto. Avevamo capito il topo, però il cosorcio c'è sempre. Che ha scritto, che ha scritto. Il topo veste come abito. Ragazzi, noi... Si può pagare alla consegna? Assolutamente sì, la tipologia di pagamenti sono sia pagamento anticipato, costa 6 euro la spedizione, oppure pagamento alla consegna 8 euro. Allora, Francesca Trombetta è nuova, sicuramente, è la nostra nuova cliente. Francesca, primo te lo facciamo così, il secondo ci aiuti e facciamo un pagamento diretto. Che ne dici? Conoscici, poi vedrai che siamo molto seri, Morbi di Passi arriva in tutta Italia, in due giorni lavorativi, e se ci aiutate con il pagamento anticipato, per noi è molto, ma molto meglio, per poter lavorare più velocemente. Allora, anch'io 1,65, dice Federica. E allora, ecco, hai visto su di me la lunghezza, dove arriva è quella lì, sì. Allora, passiamo a... Ragazzi, io mi sono dimenticato di dire una cosa importante, visto che siamo 170 online, condividete. In basso a sinistra avete il pulsantino per condividere. Chi ha dei gruppi, condivida pure nei gruppi, aiutateci a crescere, mi raccomando. E siamo passati al nostro quinto outfit, vai Denise. Allora, già sono andata. Sì, e ritorna. Allora. Tu vai, vieni, ritorni. Devi aspettare la musica. Grazie Rita per la conferma. Allora ragazze, adesso siamo passati a un nuovo outfit. Come dicevo, tra poco vi farò vedere anche... Ma ora che dice, con tre diretti a settimana ed è facilissimo superare i 50 euro e avere la spedizione gratuita. Beh, sì, è vero, dai. Tra tutti gli accessori che presenteremo, eccetera, eccetera, abbigliamento sarà facilissimo. Allora ragazzi, adesso passiamo a un nuovo blazer. Alcuni di voi già lo conoscono, perché l'abbiamo presentato una sola volta, ma è terminato subito. Ma sono arrivati colori nuovi. Allora, questo è un blazer. Il costo è di 24,90 euro. È un blazer scamosciato, come vedete, rifinito in questa maniera, con le tasche, molto molto carino, molto morbido. Non è foderato all'interno, chiaramente. Quindi parliamo di un prodotto comunque già sull'estivo. Camicia Denise e quella con il fucsia. Con il fucsia. Grazie Sara. Berta Zoni. Ottima scelta. Allora, quella di Denise quindi è avvenuta perché non c'è più. Perfetto. Ok, c'è l'altra tipologia di blu, ma non è quella lì con i romi, insomma. Berta Zoni. Allora, quindi dicevo ragazze, il blazer scamosciato, 24,90 euro, è disponibile in diversi colori con il beige, il blu, il verde. bellissimo, poi abbiamo questo bel blu, bellissimo. Poi abbiamo il color terra, eccoci qua, e l'ultimo colore è il nero. Chiaramente, come vedete, Denise sta indossando il blu scuro. Sì, devi confermare, Francesca, prima su Facebook e dopo sul nostro numero WhatsApp, ti mando la conferma del numero. Sì. Ragazze, se sia la prima volta per voi, chiaramente il primo passo è quello di prenotare l'articolo mentre voi lo vedete, quindi direttamente sulla diretta, o Facebook o Instagram, a seconda di dove ci state guardando. dopo di che abbiamo bisogno della conferma su WhatsApp con il vostro nome e cognome e ciò che avete prenotato o che state prenotando durante, guarda Valentina, durante la diretta. Mamma mia, io l'adoro. Vabbè. E quindi, eccoci qua. Allora, ragazzi, quindi, blu, beige, verde gucci, celeste, o meglio blu, color terra, c'è verde gucci per Manuela Spina? È verde, capito? È verde gucci, se sì, il mio prezzo. Perfetto, sì, è gucci, è gucci. Ottimo. Allora, grazie. Manuela, confermami, eccolo qui, il tipo di colore che io ti dicevo ieri in privato, vedi, non è un verde albero di Natale, è proprio un verde gucci. Confermami se lo vuoi. Sì, ha detto se sì. Confermo, ha detto, ok, eh? Caccia che conferma, perdonatemi. Confermo la serietà. La serietà. grazie Caccia, molto molto gentile. Poi abbiamo una nostra amica che ha fatto il suo primo ordine, grazie, e dice che si è trovata benissimo, sta confermando. Chi è? Chi è? È la nostra amica, aspetta che è andato su, eccola, eccola. Sono precisi, no, originali, buon pomeriggio. eccolo qua. È più giù? Sì. Eccolo, Cristina Pessano, buongiorno, Ah, hai effettuato il mio primo acquisto di pantalini a zampe e pantalini a copelli, sono strepitosi. Grazie Cristina. Misure del blazer, ce l'abbiamo? Allora, non l'abbiamo date, non l'abbiamo date. blazer, ci siamo dimenticati. Questo è in, lo possiamo, scamosciato? È scamosciato, sì, sì. Prezzo? Allora, 24,90 euro, abbiamo un giro seno di 136 fino a 150. Perfetto. Mentre i fianchi, idem? Sia la stessa, la stessa tipo di misura, vediamo un attimo, lo dico con un po' più di precisione. Siamo fino, sì, grosso modo fino a 150 abbondanti. La lunghezza, che me la dimentico sempre, siamo a 80 circa. Perfetto, ecco le misure ragazze del blazer, fate i vostri ordini, prego. Io vi faccio vedere i colori, dopodiché passiamo direttamente alla camicia. Allora, nero, quindi color terra, eccoci qua, poi abbiamo il celeste. Sì, la camicia l'abbiamo fatto vedere. Al pantalone passiamo. Sì, adesso dobbiamo, la camicia non ho fatto vedere i colori, perché abbiamo saltato direttamente, blu scuro, che è quella che indossa Denise, e il color beige, nero per me. Nero per Rina, tatullo. Ah, tatullo. Grazie Rina. Grazie Rina. Ecco qui i colori, ragazze, quindi nero, blu, questo pello ce l'abbiamo di qua, e questo ci fa. Ok, esatto. Allora ragazze, adesso vi faccio vedere un attimino anche i colori della camicia, perché in realtà l'abbiamo un po' sorvolata. La lunghezza della camicia? No, l'abbiamo data, non sbaglio. ma non lo so, ma la lunghezza non è la misura. Ma arriviamo Nina, la diamo, le diamo subito. Allora, la misura, dammi la lunghezza un attimino, così disegno tutto. La lunghezza è 87, chiaramente, 19,90 la camicia, esattamente, chiaramente davanti è leggermente più cortina, dietro un po' più lunga. Allora, i colori disponibili, per quanto riguarda la fantasia che indossa Denise, abbiamo soltanto il prezzo di 10 minuti. Che carine le nostre amiche. Sì, stanno scrivendo, grazie, sono molto contenta. A verde c'è ancora il blazer, Simona Peccio. Nessun problema, si può ordinare, Simona? Confermami se te lo devo ordinare, tanto questi sono articoli nuovissimi, nessun problema. Tanto ti basta che lo chiami blazer scamosciato, non c'è problema, ormai sappiamo che è il suo nome. Grazie, le camicie quindi, i colori disponibili sono la bluette che indossa Denise, poi abbiamo la versione sul nero, la versione rosa e la versione con il verde. Ripeto, 19,90 euro. Una vestibilità... confermato per Simona Peccio, eh? Il blazer scamosciato verde. Sì, perfetto. Una vestibilità, grossomodo, fino a un 54, 56, che poi, grossomodo, è la vestibilità che ha Denise. Allora, poi passiamo allo stesso modello, ma una fantasia diversa, un po' che richiama i blazer che abbiamo visto prima. Quindi andiamo su una fantasia astratta, la chiamiamo io, sul verde, le misure e il prezzo, ragazze, non cambia, siamo sempre a 19,90 euro, ok? E le stesse misure che Carlo ha scritto poco fa. Quindi verde, abbiamo il blu, abbiamo l'arancio, e infine l'ultimo colore che è il nero. Ragazzi, qui vi posso consigliare per esempio un abbinamento con un bel blazer sopra, un po' come abbiamo fatto noi, lo scamosciato, il prezzo camicia, 19,90 ragazzi, 19,90, oppure anche i blazer quelli che noi vendiamo tantissimo con la manichina arricciata, con il pantalone abbinato, insomma, ci possiamo giocare tantissimo con questa tipologia di camice. Le fantasie, come avete visto, sono due, con questi triangoli, rombi, insomma, e questa con la fantasia astratta. Denise, intanto dorme, sì, Valenti. Meno male che se ne accorgono le nostre amiche. la mia, la mia, con la goccia del nato proprio che, a palloncino. Sì, adesso invece passiamo al pantalone. Allora ragazzi, camicia arancio per Mariana Vladut. Mariana dovrebbe essere la nostra nuova amica. Vladut, credo di sì. Mariana, confermaci se sei, la vorrei risa? Ah, forse rosa. Ah, rosa è questa. Giovanna Castiglione Rosa. Sì, allora, le amiche nuove, ragazze, non dimenticate, per favore, la conferma su WhatsApp. È importantissimo, perché altrimenti noi abbiamo modo di potervi rintracciare. Castiglione, la dirigo subito, Giovanna. Mariana Vladut ha detto camicia arancione, però. Sì, sì, poi, tatullorina vuole camicia bianca e nera. Bianca e nera, eccola qui. È tatullo? Sì. Sì, tatullorina. La manica rimane corta, la fai vedere? No, diventa manica lunga, Mara. Quella me la puoi dare, perché la metto. Questa è tatullo? Sì, tanto c'è un altro ottimo, la metto insieme. Allora ragazze, vi ho messo il numero di Silvia per le conferme via WhatsApp, per tutte le nostre nuove amiche. Ricordatevi che vi basta mandare un messaggino, confermare il vostro outfit e darci il vostro nome e cognome per presentarvi. Ci ha visto bene, tatullo, guarda. Ah, si è fatta l'appareamento con... Certo. Vi ricordo invece che domani... un messaggio su WhatsApp, sì Rita, poi ti farò sapere. Domani avremo le conferme e vi ricontatteremo per il vostro ordine. No, Rita credo che mi abbia chiesto una domanda, mi abbia fatto una domanda prima della diretta, ma non ho avuto modo di leggerla, poi lo faremo domani tranquillamente. Allora ragazzi, passiamo invece al pantaleggings che indossa Denise. Questo è un articolo disponibile soltanto in... sono gli ultimi cinque pezzi, eccoli qua. No, tu che tagliai, per favore? Cinquanta. Cinquanta, cinquanta. Bene. Sì, decisamente sì. Allora ragazzi, passiamo a un articolo che è disponibile, è un pantaleggings, come vedete è un pantalone che ha nella parte finale il pizzo, ce l'abbiamo soltanto in blu, oggi prezzo promozionale per la diretta è di confermo domani, passo a prendere insieme all'altra roba che ho. Allora è un altro nome. Ah, ma forse... Lei è una nostra amica, no ma è già... è la nostra amica, quella che deve venire a girare qua mercoledì mattina. Sì, sì. Ok Mariana, ti ho riconosciuta, non sapevo il tuo cognome. Sì, a posto, c'è la busta aperta Tiziana, quindi viene domattina dal negozio. Grazie Mariana. Sì, grazie Mariana. Allora, confermo camicia arianza, ok, benissimo. Non sapevo che fossi così maleducata, ma chi è questa matta? Ma chi è? E che ne so, chi la conosce? Ma blocchi sta persona, Carlo, che non so chi sia, Anna Mirgaldi. Oddio, e chi è? Ma che ne so, ma questa... Allora, non sapevo che fossi così maleducata. Ma questa penso che è una mezza matta, non la conosco neanche, perlomeno il cognome non lo conosco. Ma chi è? Ma che cosa vuole? bloccala Carlo, perché non... Ma che modo è? Ma che modo è? Già una che si esprime così durante una diretta. Ho detto il prezzo regale, ma chi? Allora, il prezzo regale di chi? Non capisco proprio chi sia. Guarda, per favore, leva le regole, questo è come quando si presentano gli uomini con quelle battute su. Senti, Mara, andiamo avanti, non diamo troppa importanza a queste persone. Non mi sono. Purtroppo l'invidia a farvivenire la nostra tessia, senti. Ultimamente mi stanno... Più stiamo crescendo e più stiamo mutando cose particolari. Più da fastidio a qualcuno. Sì, sì, sì. Ascoltami, Mara Trastu ci chiede se quella di Denise è disponibile. Si può ordinare? Quella di Denise era venduta. No, purtroppo no. No, mi dispiace. La signora è stata bloccata. Gravissima. Mettiti questa. Ok, Silvia, la signora è stata bloccata. Sì, anche perché non so neanche chi sia e ultimamente Carlo devi pensare che stanno succedendo un po' cose particolari. Sì, sì, è vero. Un'amica ha detto forse si è faiato di E. Ma mi sa, non conosco neanche il nome. Non conosco neanche il nome, quindi non so chi sia. ma no, ma poi mi fa pensare un po' cose vabbè, non voglio essere maliglia, lasciamo verde. Lasciamo stare, ormai cominciamo a dare molto fastidio a tante... la loro invidia e la nostra forza. Bravissima. Mamma mia, mamma, sei capacastica. Questa parte da mettere nel quadernino dell'esercizio. Vabbè, volete una frase seria? Volete una frase come si deve? Vai, vai, vai. Allora, la mia indifferenza è quella di Silvia scivola nel piano inclinato della nostra indifferenza. Ok? Bravissimo. E mamma, come la ripetiamo? Una cosa che diceva? Eh, vabbè, può andare dove vuole andare. Sai che cos'è? è che stiamo facendo tante vendite. Grazie, Nina. Siamo veramente... Esatto, scivoliamoci. Tu attenta a fare queste cose che scivoli per davvero. No, non facciamo scivoli in diretta perché poi qui oltre la gente è matta. le tue parole scivolano sul piano inclinato della mia indifferenza. Bravo! E c'è Carlito, c'è Carlito, c'è Carlito, c'è Carlito. No, c'è ragazzi, dai, andiamo avanti. Noi non ci facciamo a partire da queste cose. Dai, andiamo, andiamo. Allora, dai. ci motiva a fare di più, dai. No, no, ragazzi, dai, serie, per favore. Via, via, andiamo. Allora, ragazzi, stavo... Brava Michela, hai sentito, hai visto Michela che ha detto, leggi, leggi. No, non ho letto, aspetta che non mi riesco, che si vedono poco i suoi oggi. Aspetta, prima dammi quella con i rombi nera che è di Nina Mingione. Nina Mingione. Con i rombi neri, sì. Però leggo io, dice, sti cavoli siamo i numeri uno. Bravissima. Grazie, ragazze. Brava, allora, ragazze, dicevo, attenzione, stavo passando al pantalone. Il pantalone, come dicevo, è un particolare per la parte finale. È un pantaleggings, cioè un pantalone apparentemente a sigaretta, ma in realtà aderente come un leggings. Brava Barbara, l'invidia brutta bestia. Allora, attenzione, quest'oggi lo offriamo in prezzo promozionale a 14,90 euro. Abbiamo però, attenzione, soltanto pochi tagli a disposizione. Abbiamo due tagli e 50 e peste comodo, ragazze, fate attenzione. Denise, infatti, che normalmente è una 52, 54, addirittura oggi sta vestendo una 50 perché ha veramente tanta, tanta avversibilità. Ma io posso spiegare gli articoli mentre tu mi fai queste facce dietro che non capisco poi se stai a leggere qualcosa, se stai a combinare qualcosa, non lo so. Vabbè, comunque, ragazzi, dicevo, era meglio quando dormiva. Ciao miseria. Ciao, Alessandra. Stavo dormendo, era pensierosa. Un attimo di spensieratezza. Di spensieratezza che sto a leggere con... A me sembra che dormiva. Sì, sì, sì. Sì, brava, Patti. Allora, ragazzi, dicevo, disponibile soltanto... Avete tagliato il mio doppio petto? No, mi dispiace. No. Allora, ragazzi, come dicevo, leggings, pantaleggings, aderente, soltanto blu, disponibile, due pezzi nella taglia 50. Poi abbiamo due pezzi nella taglia 52. Come vedete, ragazzi, la particolarità sono i brillantini a parte alta, il... questo triangolino semitrasparente in pizzo, vedete, è molto carino, e poi... Perché stanno tutte a commentare sull'invidia. Che ha detto? Che stanno... Stanno tutte a commentare sull'invidia con le frasi, eh, lei. Allora, si fatta lui, vuoi vendere o no? Sì, ma io ci provo, Ilen, però loro commentano, lei che si è svegliata all'improvviso, come si fa a vendere così? Ararara, cosa c'è stata? Ragazzi, torniamo alla normalità, non ci facciamo, come si dice, a bindolare. Sì, Cinzia, lo sta presentando, lo sta presentando, sì. Allora, eccolo qui, parte finale, ragazze, come vedete, parte finale, che stai a fare? Eh sì, lo faccio vedere sulla mia gamma. Ecco. Bene. Allora, parte finale, abbiamo questo triangolino in pizzo, semi-trasparente, bottoncini sopra, come dicevo ragazze, in promozione al 14,90 euro. Disponibili due pezzi, taglia 50, due pezzi, taglia 52, una 54 e una 56. Prezzo scontato, 14,90 euro. Mentre, gli ultimi pezzi, per quanto riguarda la camicia che indossa Denise, perché adesso abbiamo cambiato la fantasia, prima aveva questa con i rombi, al momento è disponibile solo una verde, una nera, sempre 19,90 euro, le camicie ragazze, si sono molto elasticizzate, Alessandra, tranquilla, e invece quella che indossa Denise, blu, ce l'abbiamo, un pezzo blu, una soltanto nera, un arancio, e due con il verde. Quindi ragazze, fate i vostri nomi, un pezzo piccolissimo, attenzione ragazze, ritorniamo, 5,90 euro, 19, esatto, e 14 il pantalone. Però prezzo promozionale, il sconto. Ok, andiamo avanti, grazie Tiziana. Andiamo avanti così, presentiamo oggi, abbiamo tante cosine, che hai fatto? La scossa. Oh madonna, non si prende la scossa. Ma io poi vorrei capire, è questa, ma no, ma secondo me è una meraviglia. Io glielo ho scritto, io ho detto, cara signora Anna, ci dispiace di tutta la sua cattiveria che ha dentro, ma si ricordi che è il riflesso della sua persona. Comunque la perdoniamo, auguri da morbidi pazzi. Ma io neanche la conosco, quindi per me ne proprio, anzi queste cose mi rafforzano, perché chi ci conosce, ormai per fortuna il nostro lavoro. Allora, pantalone, taglia, io ho una 122 di girovita, per Leonica Oprita, vuole il pantalone. 122 di girovita? Beh io direi una 52 tranquillamente. Grazie Leonica. Perfetto. Ma il colore? È solo blu. È solo promozione blu. Sì, sì, solo blu, non abbiamo altri colori. Giusto? No, c'è un nero. C'è il nero in mezzo. Sì, è vero, hai ragione. Forse sono due neri. Sì, sono un 50-52 nero, e poi un 50-52, 54-56 blu. Però io penso, ho parlato del blu, quindi immagino... C'è una certa Barbarossa, che dice, siete unici, vi seguo sempre, anche se indosso una da 42. Graziella. Senti che... Mi sa che la conosciamo, vero? Graziella Barbarossa. Ah no, non è parente di Denise. No, non è parente. Va bene, allora è ancora meglio, grazie. Allora Silvia, domani mostri qualcosa taglia XS per mia figlia, va bene. Senti per... Ci fa un complimento, non è una parente, vuol dire che è meglio. Mi metti... Alessandra Monzeglio, 50, blu. Perfetto. Perdonami Tiziana, che dicevi? Leonica Oprita pone la 54 blu invece. Benissimo, grazie Leonica per la precisione. Manuela Spina, la 50 nera, se ce l'hai. Allora, attenzione, c'è la 56 consiglio, 50 nera. Allora, 56 consiglio, 56 blu consiglio. Perdonami, la 50 nera, Carlo... Manuela Spina. Spina, perfetto. Consiglio T. 56 blu e 50 nero. E poi Cinzia Corsi, per me e Silvia, che solitamente porto la 50, è troppo grande, ci chiede? Ma Cinzia, guarda, te lo faccio, a parte che adesso purtroppo è terminato. Ah no, ci abbiamo... Denisa, tu me l'hai ridato di pantalone? Eh sì. Me l'hai già dato? Sì. Ah, allora niente Cinzia, perdonaci, è finito. Allora, camicia arancio per me è quella che indossava Denisa adesso, con le onde. Con le onde. Mariana Vladut. Grazie Mariana. Sì, Mariana è una nuova amica che verrà domani a ritirare qui il negozio, però non è di Aprilia, ma è di fuori, credo sia di Latina. Comunque va benissimo. Grazie Nella. Grazie Nella. Troppo gentile. Ma non vi preoccupate che questi messaggi ci fanno ancora più piacere, perché capiamo che cominciamo a dare festeggio. Allora, Isabella Morosini ci dice per 115 di giro fianchi che taglia dovrei indossare? Ma guarda, io penso una 52, ci siamo. Aspetta, vediamo subito, senza tirare. Così la mettiamo da parte. Allora, che colore ti andrebbe bene, Isabella? Dicci, perché ho il blu e il nero. Allora, quanto ha detto? 115. Una 52 va bene, Isabella. Eccola qui. Isabella, scegli il colore nero o blu. Isabella, dici se vuoi il nero o il blu, o entrambi. La misura penso che va benissimo, perché 118 di giro fianchi. anche entrambi andrebbero benissimo. Guarda, si mettono a chiacchierare. Leonica ha fatto, Mariana, parla di me, ma se è riuscita. perché sicuramente è anche Leonica, no? Sì, ma però, Mariana è di qua vicino, insomma, una ventina di chilometri. Grazie, Francesca. Leonica sta un po' lontanina. Eh, mi sa di sì. Non mi ricordo dove è la sua trama. Isabella Morosini, confermaci il colore, nero o blu? Sì. Please. Io vorrei, se ancora c'è il top abito bianco con pizzo nero. Assolutamente sì, Katia. Il più bello poi, uno dei colori più carini. è bellissimo. Katia, mi sa che? Quando è stato io. Ma te l'hai visto cerchietto oggi? Ma a me lo mettete nell'altro tipo, ce ne stanno diversi. Dammelo però a quello, dammelo qua, portamelo qua. Perché devi fare? Io lo voglio per mia figlia, c'ho la Camilla che adora quelle cose. No, domani no, dopo domani. Vi devo far vedere. Eh, devo fare una prova. Nero 52 per Antonella Corsi. Ma pure i sacchietti sono curvi, non fa male per niente. E il blu venduto, ho finito i pantaloni, ma anche il blu. Chi è il blu? Il blu è per Isabella. Corsi e il nero. Isabella invece? Blu è Isabella. Isabella Morosi? E Corsi è nero? Esatto. Io sto a 200 km, la lontana. Qual è la tua zona oprita che mo mi sfugge? Onestamente adesso c'è un po' di confusione. Le abbiamo spedito mille pacchi, ma mo non mi ricordo. Io vado a nomi, non a zone. Io lo so dov'è l'oprita, mi ricordo. Eh, non me lo ricordo io, giuro. Io mi ricordo. Allora ragazzi, vi faccio rivedere, 19,90€, gli ultimi colori delle camicie con fantasia, come abbiamo chiamato, un po' astratta, e le ultime due, con il verde e il nero, 19,90€. Volturara di Apulla vive. Oprita. E sarebbe la... Vabbè, non me lo ricordo. Ah, Foggia, perfetto. Grazie cara. Allora ragazzi, per chi si è collegato un po' più in ritardo, le nostre giacche scamosciate, blazer, taglia unica, blu scuro, color terra, 24,90€, celeste, questo celeste è bellissimo, il blu ve l'ho già fatto vedere, e il beige chiaro, quasi un panna direi, e nero. 24,90€ ragazzi, fate il vostro ordine. Faccio un piccolo remind, perché piuttosto che fai... Perfetto. ...tutto alla fine, che poi diventa pesante, perché ho visto che poi si parte un po' a lenti all'inizio, c'è sempre un po' di... aspettiamo che sia... Allora, cominciamo con la canotta, con il vestito. ...è il nostro abito, con bretellina, elastico dietro, abbiamo fatto vedere diversi colori, tra cui il bianco, è proprio un abito ragazzi, lunghezza al ginocchio, fucsia, tiffany, nero, e blu. Sono cinque colori disponibili, 19,90€. Poi, abbiamo fatto vedere, i nostri blazer, astratti, qui, mi sa che affitteremo un po' per venirvi a trovare, magari Valentina, sai che bello che sarebbe? Venite, venite, poi facciamo una sfilata di moda. Ragazzi, celeste, fucsia, questo blazer, 24,90€, verde, arancio, blu elettrico, e nero. Le casacche ragazzi, a 19,90€, quelle che appena ho fatto vedere. Sì, domatella, sono gli ultimi pezzi, a 19,90€, fantasia, con i rombi, e fantasia astratta. Ecco qua, sono gli ultimi pezzi, disponibili, 19,90€, e 19,90€, anche i nostri abiti, con bretellina e pizzo. Una liceale, sai quando andavamo al liceo? Eccola, uguale. Blu per Roberta Perfetti. Quanto mi piace. Che cosa, Carlo? Roberta Perfetti, l'ultimo outfit che hai fatto vedere, non quello, quello di prima, quello che hai appena appoggiato là. Ma parli della giacca, o di questo? Roberta, specificaci meglio, perché blu, forse, ci avevo in mano questo? Io penso della giacca. Roberta, mi confermi se è il blazer Monica Tagliani, camicia rombi nera. Vestito sottoveste, vuole Roberta, Perfetti, colore blu. a 19,90. Perfetto. Poi per Monica Tagliani, camicia rombi nera. L'ho presa. Grazie. Appoggia nella... Buon pomeriggio Giusy. Non ti faccio fare, non ti faccio fare. Ok, camicia rombi nera. Perfetto. Allora, andiamo avanti. Sì. Ho fatto vedere, poi dopo mi fermo, perché Denise è pronta. Abbiamo fatto vedere anche le nostre camicie belle, larghe, comode, ragazzi. La vestibia fino a un 58. Per me giacca blu elettrico, zebrata. Grazie Nicoletta. Perfetto. Blu elettrico. Sì. Blu elettrico, zebrata. Grazie Nicoletta. Allora, poi come dicevo ragazzi, delle camicie in cotone, bellissimo, una vestibia bella grande, la potete usare come maxi camicia. Magari abbinandola sotto con un bel leggings, 24,90 euro. Parliamo di una camicia, in puro cotone. Disponibile in nero, color panna, un bece chiaro, celestino, bianco e lilla. Eccoci qua, 24,90 euro. Uh, guardate ragazze, scusatemi, mi sono dimenticato due camicie, due versioni di camicie. Ma le incatenate, belle? Non le notate? Sì, sono due pezzi, ragazze, sempre 19,90, fanno parte della stessa linea, scusatemi tanto, non ci avevo fatto caso, perché ho diversi articoli di là. Eccolo qua, bianco-nera, questa, come la chiamiamo? È più beige, lo sai. Ma che mi so, comunque incatenata, ma com'è? Com'è? 19,90 euro, come le altre che abbiamo visto poco fa. Quindi ragazze, due incatenate, una verde con l'olio, e quattro pezzi astratte. Per me, Maxi camicia, come color jeans, grazie. Sempre per Nicoletta Longhi, eh? Ma, ecco, la color jeans, Maxi camicia, quindi parliamo di questa. Si può sapere la lunghezza della camicia Maxi? Sì, Floriana, guarda, è quasi un vestito, sai? Incatenata per me, per Francesca, per Franca Savignano. Te lo do subito. 103 centimetri circa. Nicoletta, 103. La lunghezza da Floriana, incatenata per Franca. Grazie Franca, benvenuta. E Floriana, e Fiorella dov'è? Al lavoro. Caldarola. Come al lavoro? Non l'avevo vista prima? Non era in linea? Io sto dicendo al lavoro. Ah. Allora, quindi mi rimane un'incatenata, una verde a Robi, e in quattro pezzi la versione astratta. No, abbiamo solo antipatiche, Cioffi. No, non è Fè, non è Cioffi. è Franco Adriana. È Franco Adriana. Ma antipatiche in che senso? A titolo così? Ah, eccola. Eccola, ma allora fatti sentire, Fiorella, la giacca nera zebrata ha i bottoni? No. La zebrata intendono questa, giusto? sì, sì. No, è tipo uno spolverino, sfoderato, eccolo qui, però non ha bottoni, solo le tasche. mi sembri un Ippi, Danny. Di che non si mette due? No. Sì, assolutamente sì. assolutamente sì. No, no, io non ce l'ho messo. No, stanno giù. Ok, vieni, vieni, senza. E dopo te lo metti, dai. Tanto ce l'hai su un altro outfit. Ragazzi, siamo tornati al collegio, al liceo, guardate. Che bello. No, gli devo fare una foto. Quanto mi piace questo. Tiziana, se me l'hai fatto due outfit, uno solo, uno col palazzo. Poi, non so se avete visto, ragazze, confermatemi, se avete visto la caricatura che abbiamo fatto di Denise, avete visto il cartone, come è uscita bella? Vi è piaciuta? Ti è piaciuta? Sì. Bella, vero? Adriana dice, antipatiche, non mi interessano. Sì, c'è? No, però se vuoi lo posso camminare. È sparita la signora Mossone, è vero. lascia. È Mossone, è sparita, ci chiedono, ma che è successo? È sparita la signora Mossone? Eh, ma le volte sai che c'è anche un problema di orari, magari i cambiamenti, ho clienti che mi, troppo bella la caricatura, di Denise. È vero, è bellissima. Ma voi avete visto la caricatura di Silvia? Bellissima. Uguale. È uguale. È uguale. È uguale. Sì, sì. Allora Carlo, passiamo alla casacchina che indossa Denise. Camicia di Denise venduta già per Fiorella Savignago. Allora, tizia, attenzione, prendiamo gli ordini, la vogliamo chiamare casacca... Fiorellini? Schiffon, non lo so, come la vuoi chiamare? mi invento qualcosa. Mi invento qualcosa. Grazie Valentina. Allora, casacca, prezzo. Camicia Denise. Allora, prezzo 19,90 euro. Ti do subito le misure. Siamo a 120, fino a 148, di giro seno. E grossomodo stessa cosa per i fianchi. La lunghezza, circa 76. 76? Sì. Allora, i colori disponibili, ragazze, possiamo prendere gli ordini, perché questo è un articolo bellissimo nuovo. vi faccio presente una cosa, casacca collegiale, eh sì, vi faccio presente il fatto che sotto alla sua canottina, vedete, e sopra questo strato in, sembra, non mi viene il termine, aiutatemi, aiutatemi, non mi viene, tipo scifon, insomma. Vogliamo prendere due. I colori disponibili, attenzione. E chi l'ha detto? Quella che ha, Denise, è disponibile in due colori, praticamente con i fiorellini piccoli, la versione scura, e la versione chiara sul bianco, che ha questi fiorellini, che sembrano un Tiffany, un color arancio, insomma, molto carino. Nicoletta Con, no, anche per me la casacca multicolor. Ah, questa, giusto. Sassi, dove stava? Sì, sì, questa. Grazie. questa qui ha i fiorellini piccoli, scura, fiorellini piccoli, chiara. Ma stasera i messaggi non si vedono, Carlo? No, l'abbiamo visto. Nicoletta, sì, bella casacca in privato, mi farò sentire, va benissimo Barbara. Allora, poi abbiamo la versione multicolor, con dei colori veramente belli, belli, belli. Ragazzi, anche se il tessuto è trasparente, ma sotto voi avete la vostra canotta, quindi state tranquillissime, che non è trasparente realmente, insomma. Sì. Allora, la casacca è elasticizzata anche lo strano sopra? Lo strano sopra? Vabbè, questo... Guarda, allora, sotto ha la casacca, la canotta, sopra ha lo chiffon, ma è veramente tanto, tanto elasticizzata. Sì, sì, molto, molto elasticizzata. Multicolore per Manuela Spina. ok, eccoci qua, grazie Manuela. Mi rimane il nero, il nero con questi cerchi, e il nero a pua, eccola qui. E qua quella di Denise, versione scura, versione chiara. ma quella di Denise, una era stata prenotata? Io li ho casacca, multicolor. perché c'era un'altra, tu hai detto, dobbiamo prendere gli ordini comunque. Antonella Criscuoli, multicolor. Manuela Spina l'abbiamo messa, multicolor. E avevamo Saveniago pure. Sì, perfetto. Saveniago c'ha la... quella di Denise. Denise, sì, sì. E mi dici la multicolor? Allora, la multicolor, sì, Antonella Criscuoli. Come te pare? Se la vuoi mettere, se no... Mia questa, grazie, la multicolor, per Maria Antonietta Casagrande. No, Maria Antonietta, mia questa, che vuol dire? No, no, a casaccio non li prendiamo, perché poi mi fanno... Allora, Silvia, la giacca azzura, mi dici il prezzo e la misura, sono entrata adesso. Attenzione, Rosalia... Allora, per Franca Saveniago, anche quella di Denise. E qual era? Rosa Cardinale, mi dici se è questa qua, per favore. Ce n'era una chiara e una scura. Fammi capire, Rosalia, se è questa, ti dico il prezzo, che è 24,90. Le misure, se non ricordo male, da 140 a 150 di giroseno, è stessa cosa per i fianchi. Toti, una in avanza. Ah, dammela, che ce l'ho dato direttamente a Franca. Allora, Maria Antonietta Casagrande, se vuoi la multicolor, si può ordinare. Eh, ti ho detto che la volevo. Ok? No, prima aveva scritto mia, grazie. Sì, ma stavamo parlando di quella, per quello. va bene, Maria Antonietta Casagrande, te la mettiamo da parte, eh. Cosa? Multicolor, quella che c'ha Denise. Certo, Antonella, tra poco lo faccio vedere. Allora, la nostra amica Rosalia, spero di aver risposto correttamente, perché non so se si riferiva a questo blazer, ma secondo me sì. Rosalia, scrivimi se era questo, quello che volevi sapere. azzurra diceva, eh, è l'altra. Ciao Annalisa. Perché ce l'hai azzurra pure. No, mi sembra che ha scritto blu. No, lei dice, Silvia, la giacca azzurra, mi dici presto, mi dici? No, stiamo prendendo le prenotazioni per la multicolor, domattina chiameremo il magazzino e ce le facciamo mettere davanti. Allora, Cata Chiamionolo ci dice, sì, ti leggo Katia. Questa Rosalia, prezzo 24,90, scamosciata, 140, 150 seno, e la stessa cosa anche per il giro. Aylen, sì, Aylen. Allora, anche multicolor, anche per Aylen. Perfetto. Grazie, Aylen. Ragazzi, vi ricordo che a me sono rimaste l'acqua e questa qui con i cerchi, con questo disegno molto carino. Il prezzo, ragazzi, è sempre lo stesso, 19,90. 19,90, esatto. Sì, sì, sì. poi Katia Camiolo, quella di Denise Fiorellino, che aveva Denise all'inizio. Ok. Ok, questa è di Aylen, cancellamela che stava rispondendo la signora, ha detto, Aylen Ros. Ok. Sì, Aylen, va bene, perfetto. Quante ce n'hai ordinate di quelle lì? Quelle multicolor? Uno, due. Solo due? Per adesso sì. Perfetto. Ok, ci siamo. Non è dato, Lalla? Niente, mi serve a me una cosa. Ok, mia per Rosalia Cardinale. Rosalia, mi riferisci alla giacca azzurra, voleva lei. Sì, sì, infatti poi gliel'ho fatta rivedere, grazie Rosalia. Rosalia, mi confermi che è questa qui, ma penso di sì. Ok, mia. Sì, perché mi ha chiesto il prezzo e le misure. All'inizio io ho fatto vedere la blu, che avevo letto male, io infatti avevi ragione, tu avevi letto azzurra. Magallo, stavo rispondendo alla signora. Sì, questo l'abbiamo già messo. Isabella Caggiano dice... C'è una multicolor? Sì, Isabella, assolutamente sì, te la mettiamo da parte. Allora, Isabella Caggiano. Gaggiano, con due G. Allora, Silvia, la giacca a panna scamosciata mi sembra corta per me. Posso lasciarla? Se è un problema la tengo. Grazie, scusa. Chi è? Sandra Pezzone. Mentre Leonica Oprita vuole la casacca Pua. La casacca Pua. Eccola qui. Grazie, Leonica. Confermato Carla. Grazie, Katia. Ma lei è mica la nuova? No, avrà confermato su una. dico, però, sì, sì. Ma Caggiano è il nostro cliente? Chi? Caggiano. Non lo so. Isabella Caggiano? No, Vanessa, i jeans non ci siamo ancora arrivati. Stiamo facendo la vendita della casacchina e al momento della casacca sono rimasti solo due pezzi. Quella di nostra Denise e questa qui con il nero. Sono gli ultimi due a 19,90 euro. e adesso tra un momentino passeremo al jeans. Isabella, confermami cortesemente al numero 338 23 21 430. Ti ho mandato un messaggino in direct così puoi avere il numero e confermare il tuo outfit con il numero di telefono. Ok? Con il nostro WhatsApp. L'avete messa un'altra multicolor per Isabella Caggiano? Sì, sì, sì. Ok, perfetto. È lei che ci deve confermare. Ma, sì, ok, va benissimo. Posso andare avanti allora? Infatti ci dice che è nuova. Isabella, perfetto? No, sono nuova. Sì, Isabella, confermaci via WhatsApp presentandoti con il numero di WhatsApp al 338 23 21 430, nome e cognome e l'outfit che ti interessa. Domani mattina sarai ricontattata per il tuo ordine. Io nel mentre l'ho già ordinata per sicurezza ma posso. Chi come te? Guarda, l'efficienza proprio. Come te non c'è nessuno. Tu sei l'unica al mondo. Voglio andare via. Si può chiudere la diretta? Non mi guardare perché io sto andando via. Poi lo sai che a me mi preoccupa quando cominciano così. Quando cominciano così e poi dopo finisci male. Mi ti ho guardato male. Non so, ma io sono sincera. Allora, ragazzi, passiamo ai jeans. Vando alle chiacchiere. Allora, Carlo, questa è una novità assoluta. Non abbiamo mai avuto un articolo di questo tipo perché è un jeans molto leggero in Fico. 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 Io stavo dicendo in Fico. Vabbè, è un jeans, ragazzi, modello a palazzo, come vedete, leggerissimo, quindi morbido. Qua partiamo dalla taglia 46 fino a raggiungere la 54. Ragazzi, vi dico però che ha una vestibilità piuttosto comoda. il prezzo di questo jeans è di 29,90 euro. Unico colore, quindi soltanto così come lo vedete. Bellissimo. Come vedete, ragazzi, è un po' anni 80, no, questo stile. Tu che tagli a dinossi in questo momento? La 52. Quindi, ragazzi, veste comodo ma non esageratamente. Diciamo che tu, la 52 è la... È giusto. È quasi la tua taglia. È quasi la tua taglia. Lo senti stretto? Lo senti bene? Giusto. Giusto, perfetto, ok. Ragazzi, quindi, se vi piace questo jeans, scrivete jeans a palazzo, chiaramente, vabbè, tanto il modello è questo, ma soprattutto la taglia che vi interessa. Per la mia altezza devo tagliarne metà. E vabbè, non è vero però. Così ti viene più a palazzo ancora perché più lo tagli e più è bello morbido. Vabbè, io c'ho sempre le soluzioni. Cosa ridete? Cioè, io dico sul serio, eh. Calcolate che io sono... Eh? Calcolate che io sono... Un metro e settantacinque. No. È un metro e settantacinque. Eh! ti tatti ci ho messo in mezzo. Dai. Allora, Nella Rossi, piccolo che intendi? Parte dalla 46 fino alla 54 comoda. Che taglia ti serve, Nella? Buongiorno, buon pomeriggio. Ciao Deborah. Allora, ragazze, jeans 29,90 euro. Io ho 126 di fianchi. Che misura devo prendere? Vanessa Mammetti. Mammetti. È nuova, eh? No, no. No, mi sembra di no. Però, ho 126 di fianchi. Vediamo un attimo. Sì, sì, no. Non è quello. Ok, perfetto. Allora, te lo dico subito. Vanessa, ti stiamo rispondendo per il tuo outfit, per la tua taglia. 126. Sì, io direi una 52. 52. Sì, 52. Se ce la confermi, allora per... 54 con misure fianchi. Te lo dico subito. Allora, vediamo un attimo. I fianchi siamo a 134. Nella Rossi 56. Non ce l'abbiamo. La più grande. Arriva la 54. No, perché gli ho chiesto che taglia. Ma copre 140 di fianchi, dice Rosalia Cardinale. Vediamo. Vediamo. Mi sembra di no, purtroppo. No, nella 58 non ci arriviamo proprio. 130 di fianchi, la 54, grosso modo. 130, non di più. No, mi dispiace ragazzi, il massimo è la taglia 54. Parte dalla 46, dalla 46 fino alla 54. Per la nostra amica prima che ci aveva dato la misura in centimetri, 126. Io penso una 52 va più che bene. Metti da parte Vanessa Mammetti. Vanessa Mammetti aveva chiesto la 52, vero? Sì, la 52 gli hai confermato di 126 fianchi. Ilaria Matteucci ha 54? Ah, gli abbiamo dato le misure, però non abbiamo dato le misure, non hanno dato. Vanessa Mammetti ha confermato, dice io ho 126, quale devo prendere? Quindi va benissimo. Invece la nostra amica, papà papà, dove sta? Aiuto, ce n'era un'altra, ci ha chiesto, c'è Rosalia, Matteucci ci deve, Ilaria mi dici se la 54 la vuoi perché gli ho dato le misure. Mia figlia ha 122 in Italia che devo prendere. Leonica, devi prendere una, abbiamo detto una 52, vero? Sì, allora una per, dammene per Vanessa Mammetti per favore. Che taglia? 52. E non te la posso dare? Va bene, segniamola. Vai. Poi mia figlia ha 122, che taglia devo prendere? Eh, anche lei una 122, una 52. sì. Perfetto, per Leonica Oprita pure. Mentre ci devi confermare se lo vuoi, Rosalia Cardinale. Dai il fornitore. Ilaria Matteucci, Silvio ha paura di starci stretta? Ok, va bene. Non ti preoccupare, tranquilla, nessun problema. Andiamo avanti. allora ragazzi, 50, 52, 54. Una è Leonica Oprita. Indossando una 52. Allora, io direi, andiamo avanti. E anche Mammetti Vanessa è 52. Sì. Allora, sai che voglio fare? Invece, andiamo avanti con il prossimo outfit, appunto, tutto per terra. Ti voglio far provare un altro di un'injins, che non ho messo nell'outfit. No, Mammetti non ce l'abbiamo detto, Mammetti. Sì, sì, per un'altra. Scusami. La 52, che muovete con siate che misura di girofianchi? 126, ragazzi, di girofianchi. Fino a 126. No, di più di 126. Qualcosina in più. Adesso magari la misuro per sicurezza. Adesso te lo diciamo, Mammetti. Cioè, hai chiesto se andava bene per 126, l'avevamo confermato. Arriva a 130, avevamo detto. Però, ora la misuriamo di nuovo, per stare tranquilli. vi riporto che domani comunque potete tranquillamente confermare la taglia, la misura, eh? Ci potete mandare le vostre taglie. Ok, Rosalia, non c'è problema. Allora, i fianchi della 52. siamo intorno ai 122, ma scusami, ecco no, non ho tirato bene, perdonatemi, era 126, qualcosa, sì. Sì, siamo intorno ai 126 circa, per quanto riguarda 52. Se la nostra amica ha paura che sia troppo precisa, le diamo una paglia in più, nessun problema. esatto. Ma ti ripeto, il jeans ci sentiamo implicato quando viene mia figlia, va bene Leonica? Ok. Allora, quindi vediamo questo e passiamo al prossimo jeans. Bello, bello. Allora ragazzi, qui invece vi presentiamo un'altra tipologia di jeans, anche qui abbiamo lo stesso prezzo. Eccola qua. Grazie Isabella. Ah sì, mi ha mandato io che ci vedo mai. Ah, mamma mia. Mi provate. Sì, è la mia. Ok. Era nuova. No, forse è stata un'arte. Isabella Gaggiano ti ha mandato il messaggino di conferma, è nuova. Perfetto, grazie, ti ha mandato un messaggio bellissimo Isabella, grazie tante. Allora, adesso siamo passati a un'altra tipologia di jeans completamente diverso sia nel colore sia nel modellino. Anche qui ragazzi, attenzione, abbiamo le taglie. Il prezzo innanzitutto è uguale a quello precedente, 29,90 euro. È un bel jeans morbidissimo, molto più, diciamo che è molto più elasticizzato rispetto al modello a palazzo che abbiamo visto poco fa, perché è più stile jeans, un pochino più classico come tipologia di tessuto, quindi molto più, si dilata molto di più. Il prezzo è 29,90 euro. Ragazzi, anche qui abbiamo il discorso delle taglie, quindi anche qui partiamo dalla 48 fino ad arrivare alla 54. Però qui ragazzi, rispetto al modello precedente, abbiamo sicuramente una vestibilità molto più grande, perché? Perché comunque questo pantalone rispetto a quello di prima è molto più elastico, il tessuto è proprio più elasticizzato, più morbido, e quindi sicuramente si adatta meglio rispetto al modello a palazzo che abbiamo visto prima, che sembrava più una sorta di tessuto in viscosa rispetto a questo qui. Ragazzi, ve lo faccio vedere bene, eccolo qui, abbiamo queste lavorazioni, nella parte dietro invece, piuttosto tra virgolette semplici, 29,90 euro, disponibili anche qui a taglie, dalla taglia 48 fino alla taglia 54, quindi, se vi piace, in questo momento Denise sta indossando la 52, eccola qua, infatti, io per questo è più comodo, jeans 54 per Katia Lussio e 48 per Fiorella Savegnago, Franca, Fiorella, ah, Fiorella Savegnago 48, mentre Katia Lussio 54, bellissimo, questo jeans è bellissimo ancora, mi piace veramente tanto, Katia Lussio 54 lo te l'ho dato, è Fiore? Fiorella è questo, questo è Katia Lussio, allora Denise sta indossando una 52, Villaria Mantenucci ci chiede, fianchi 54, che abbiamo dati, 50 per me, poi Angela Barboni 50, benissimo, Franca Samignago 50, ah, per Franca, è un altro? allora Tizia, ce n'ho solo uno, quindi segnalo, chi è? una per Franca, no lei 52, uno per Franca Samignago e uno per Angela Barboni, Anna Rita, se la prima vi organizzate per i pagamenti, Anna Rita, molto semplice, il costo della spedizione è di 6 euro con pagamento post pay, bonifico, Paypal, 8 euro per il pagamento alla consegna, quindi i pagamenti sono tutti, mentre per, se si supera 50 euro di ordine, non si paga nulla, la spedizione è gratuita, ok? Nicoletta Milan 52, quello che c'ha Denisa, benissimo, così tanto prendiamo gli ordini, grazie Nicoletta, scusami, jeans di prima, potrei avere le misure che mi si è scollegato il telefono? Rachele Paesani, jeans con strappo taglia 52, Floriana Caldarola pure 54, Carlo, allora dimmi, ripetimi, allora vai, Rachele Paesani 52, e poi abbiamo 54 per Floriana Caldarola, allora, per Antonella Griscuoli, la 54 della taglia più grande del jeans di prima, siamo a 130 circa di giro fianco, che taglia? 54 Caldarola, Antonella fammi sapere se, come l'hai chiamato questo pantalone? Jeans è classico, perché quell'altro è a palazzo, questo è classico, poi, ciao, posso sapere i fianchi della 48, se è possibile? Sì, li vorrei dare, ma abbiamo levato il jeans, siamo grosso modo, Carlo, 108 senza tirare, 108 senza tirare, 108 ragazzi, se lo tiriamo, che ragazzi si allarga tantissimo, ok, perfetto, allora, 54 per Floriana, l'avete messa? Sì, perfetto, Antonella Griscuoli non mi ha risposto, quindi forse non va bene la misura, non lo so, perché è sicuro a palazzo di prima, vediamo un attimo, Nicoletta Milan, l'avete messa? Sì, sì, ok, io mi sono persi tutti i messaggi, perché stavo sentendo le misure, allora, andiamo avanti ragazzi, vai, questo jeans è piaciuto tantissimo, sì, sì, allora, potrei sapere il girodita del jeans che sta presentando taglia 52, 54, l'abbiamo date ragazze, abbiamo detto 108 da 54, guarda, se ti piace il jeans, siccome hanno le taglie, sentiamoci in privato, prenotaci, mettiamo una 52 con il punto interrogativo, e domattina ci sentiamo meglio in privato, così ti diamo più precisamente le misure, oppure ce le scrivi tu direttamente su whatsapp, e vediamo qual è la taglia più adatta a te, che le volte facciamo prima, Ilaria Matteucci, io ho 133 fianchi, va bene Ilaria, ci arriviamo tranquillamente, la 52, no, forse è meglio la 54, tizia, segna Ilaria Matteucci, 52 con il punto interrogativo, vai, che sappiamo che dobbiamo verificare, 133 fianchi, ah, aspetta, scusa, ce l'ho qua, eh, quella è 52, lo misuriamo, dai, va bene, te lo dico subito, Ilaria te lo dico subito, se ti serve la 52 o la 54, vediamo un po', ce l'ho qui, perché questo rispetto al jeans di prima, veste molto meglio, allora guarda, arriviamo a 146, con la 52, lei c'aveva? 133, Ilaria, allora confermo la 52 per te, ma pure la 50 andrebbe bene, però, secondo me, ha detto ok, quindi Tizia, questo te lo puoi prendere, ah, me lo dai subito? eh sì, perché se no, eh, Tiziana, l'abbiamo appena detto, la taglia di Denise, quella che indossava Denise, su Instagram, va benissimo, Annalisa Laureti, però scrivimelo il messaggino su WhatsApp, per quanto riguarda il jeans, ok, poi ci sentiamo con comodo, oppure Annalisa, scrivimi direttamente le tue misure, così verifichiamo qual è la misura più adatta, basta che mi dai girovita e giro fianchi, è facilissimo, Pauretti, allora, Anna Rita, benvenuta, grazie, allora, le modalità di pagamento le abbiamo già spiegate, che al di sopra i 50, va bene Ilaria, va bene, sono a dieta, mi puoi dare una 50, va bene Ilaria, allora segna il 10 a 50, sì, tanto Ilaria, io ve l'ho detto, secondo me 50-52, poteva andare bene uguale, Tiziana, ah glielo leviti, eh, certo, eh sì, perché gli abbiamo dato, va bene, ok, nessun problema, a me quelli strappati volevo precisare, sì sì, Floriana, tranquilla, abbiamo preso gli ordini, diciamo, quasi esclusivamente tutti di questo tipo di jeans, anzi, sai che ti dico, me lo tengo un attimo qua, lo so che ti serve, però, a questo punto, sì sì, Nicoletta, l'abbiamo già messa da parte, la 52 per te, non ti preoccupare, allora, abbiamo una 50 per Tiziana Cianciaruso su Instagram, per me l'anna che l'hai messa? Sì sì, ok, 50, grazie a te Tiziana, sì, prima o poi di Maglista, ma Ilaria, ma stai bene così, ma che ti frega, Ilaria, cominciamola domani, non ti preoccupare, guarda WhatsApp, per favore, allora ragazzi, adesso passiamo invece, cambiamo completamente genere, se sono finiti gli ordini per i pantaloni, posso andare sulle tute, è benissimo, allora aspetta, Nicoletta Milano, io ho una 130, va bene, non c'è problema Nicoletta, va benissimo, 52, 52, e quello gli abbiamo messo, abbiamo messo quella, allora, Carlo passiamo adesso a un completo tuta, ok, ok, prezzo totale, cioè casacca più pantalone, di 29,90 euro, abbiamo un giro seno, che siamo dai 140, circa dai 140, fino ai 154, 156, sì sì, Ilaria, fianchi, 130, fino a 150 circa, però il tessuto è in cotone, è garzato, molto elasticizzato, quindi tranquille ragazze, che ha un'ottima vestibilità, la particolarità di questa tuta, è che sono queste frange, molto carina, il prezzo della tuta completa, è di 29,90 euro, mi dai che mi sguido pure del pantalone, è un prezzo piccolo, 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 questa tizia, se serve ordine, la tuta frange, non ci possiamo sbagliare, allora, giro vita del pantalone, siamo da chiuso, 86, vita no? Di vita, sì, se tiro, arriviamo a 140, grazie a te tiziana, e la tuta Ilaria Martellucci, ok? Grazie Ilaria, da te Ilaria, poi giro fianchi, siamo da, eh sì, te la posso dar, ma sto misurando, 138, sì, fino a 100, 174, perfetto, ragazze, avete le misure sia della tuta, della jack, della felpa, che del pantalone, esattamente, eccola qui, allora, i colori disponibili, chiaramente il nero lo vedete già indossato, pure Nella Rossi, grazie Nella, allora scrivi così, pantalone jeans, palazzo taglia 48, grazie Carlo, scusa, eccoci qua, questo è per taglianti, ok, anche per Enza Cice, vuole la taglia 52 invece, del jeans classico, ah il classico, ah eccolo, no però se la segnalo, se no sempre che mi manca, per farlo vedere, ditemi, allora, Enza Cice, ha il jeans classico, taglia 52, mentre Monica Tagliani, ha quello che ha messo, mi sembra adesso, il 48, sì, jeans a palazzo taglia 48, sì, ok, ci siamo? Allora, tuta frangi, chi era? Nella Rossi, nella Rossi, e una già l'abbiamo messa, vero? Sì, perfetto, l'altra era di Nicoletta, di Ilaria Matteucci, benissimo, quindi due nere sono andate via, benissimo, però possiamo ordinarle, non è un problema, allora, gli altri colori a disposizione, per quanto riguarda, questa tuta, perché ci sono sempre i prezzi vecchi, sulle stampelle, io non capisco, va bene, va bene, lasciamo stare, abbiamo la rosa, eccolo qui ragazze, molto carino come modello, poi ragazze, un prezzo piccolo piccolo, parliamo di un articolo, già primaverile, perché in cotone garzato, chiaramente tessuto, elasticizzato al massimo, bello, comodo, confortevole, quindi, oltre al nero, abbiamo il rosa, abbiamo il grigio, e il celestino, si si, ci stanno, ci stanno lì, e abbiamo, praticamente, quattro colori a disposizione, quindi, rosa, grigio, celeste, questo celeste jeans, e la nera che indossa Denise, guardate bene come è indossata Denise, perché è particolare, è molto carina, ha la tuta nera per me, per Nicoletta Longhi, grazie Nicoletta, sì, sì perché un'altra ce l'ho da darti, l'altra dobbiamo andare avanti, benissimo Nicoletta, prendiamo la prenotazione per la tuta, quindi ragazzi, quattro colori a disposizione, per questa tuta nera, tuta nera per Donatella Liuzzi, Enza Antonazzo Grigia, ok, a ti segnale tutte, poi dopo quando abbiamo finito, te le do, Liuzzi, Liuzzi nera, e Antonazzo, mi dai il nome di Liuzzi, Donatella, ragazzi per le nuove amiche, mi raccomando, la conferma su whatsapp, non vi dimenticate, perché è molto importante, molto importante, grazie Agata, grazie Enza, grazie Donatella, e anche grazie Nicoletta, certo, guarda da ruba sta cosa, no è che mi stava vedendo, una battuta brutta, no no, no no, dai come lo dici tu, grazie di qua, grazie di là, cioè ti viene, cioè io, vabbè, ma Denise, Dilla la battuta, no, non si può, ah ok, eh, non si può dire, cioè no, ci siamo, ragazzi ti faccio una carrellata dei quattro colori disponibili, chiaramente la nera la vedete su Denise, abbiamo anche la rosa, celeste per Milan, la grigia e la celeste, ragazzi, il prezzo piccolo piccolo, perché è un completo tuta, un cotone garzato, come dicevo, un tessuto molto elasticizzato, bella, comoda, ma Rosa non l'ha presa nessuno, non l'abbiamo appena venduta rosa? no, mazza la rosa che è tanto carina, che è tanto bella, eh, magari, sai, questione di questi, la prossima volta fagli mettere la rosa, se volete ve la metto adesso, con tutte queste forie, no, no, perché a lei piace il rosa, ecco, capito, ma c'è, stai dicendo così, ma è proprio sfotato, e non mi va, ma vatti nella casa, no, devi dirgli, no, non mi va, no, ma se viene così, ma guarda questa, insensibile, cioè, è veramente insensibile questa donna, guarda, sembra una cattiva persona, guarda, allora ragazzi, stiamo in attesa della rosa, veramente, no, allora Tim, intanto queste te le do, grazie, ti do anche quella di Denise, e poi andiamo avanti con il prossimo apito, che ci abbiamo presso, ah, un apito, ok, perfetto, ragazzi, adesso passiamo a un bel apitino, carino, si lancia, 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 vai, pesa, allora, un po' di concentramento, l'ho presa però, scusa, di concentramento, mi devo concentrare, capito, domani, domani, ti passo anche questa, ragazzi, se l'ho confermata con un messaggio su whatsapp, sono nuova, benissimo Donatella, hai fatto benissimo, brava Donatella, ottimo, benvenuta in questa gabbia di matti, ricordatevi che siamo morbidi, pazzi, pazzi, ok, perfetto, io stavo aspettando te, guarda, la vuoi una bella citta, la vuoi una bella citta? si, si, così mi solleva, si, questa cosa, una bella operazione, risolvi il problema, no? allora, attenzione, ma sei gente che se ne fai di più, ma figlia mia, ma tu sei troppo però, quando è troppo è troppo, non c'hai davvero un brutto carattere con queste cose, eh infatti, mamma mia, sono così imponenti, ce la fai, arriva, figlia mia, aspetta eh, sto facendo una cosa, bella tante con Denise, veramente, no, ti sta larga, ma che la cinta larga gli sta, mia tuta nera, Rosalia Cardinale, non l'hai disegnata? Cardinale? grazie Rosalia, segnata, vai, cioè la sto segnando, non l'avevano vista, a posto Rosa, l'abbiamo messa, che devi fare, ma guarda, non c'è, dopo, te la faccio io, vieni, ma guarda, ma io non lo so, allora, dove ce l'abbiamo questo capito? ma guarda che, è pertinente, è pertinente, guarda, guarda, è giocata, ok, basta, è reggisone adatto, dicono comunque, eh, eh sì, ma perché sono troppo mesanti, guarda, 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 ci sono, ci sono reggisini che ti tirano su tanto, è ancora più grosso, figlia mia, mi sa che si è allentato, è reggiseno, questo tirano, un po' lo tiro io dopo, vieni un pochino più avanti, questo, a forza di mettere il lavallo, è rotto, non ho capito, ma guarda, ma guarda, arriva una foto, come vado, metto sempre questo, illidiosa, guarda Valentina, allora, metto sempre questo, quindi mo' a forza di lavallo, se è rotto pure il lavallo, e ho capito, ma comprane un altro, no? vabbè, perché poi, ma davo gli investi 5 euro, non ce l'ho, non ce l'ho, non li uso, li uso solo neri, fucsia, mio abito Denise, per casa grande, grazie Maria Antonietta, grazie Maria Antonietta, che hai steso un velo pedroso, su questo piano inclinato, dell'indifferenza, 26, come lo chiami? eh, mo' come lo chiami? Abito a V, a V, io avevo la 9 prima, sto dimagrita, Antonella Barile, mamma mia, stavi messo bene pure tu, eh Antonella, Antonella Barile, lei c'ha un'ottava, quindi non è che sta tanto meglio, insomma, allora ragazzi, dai, cominciamo, questo abitino che indossa, bando alle tette, bando alle tette, comunque dicono stupendo, sì ma l'abito per fortuna, le twins, vabbè, allora ragazze, l'abito, parliamo di un abitino in chiffon, chiaramente ha la sua sottovesse, quindi non è assolutamente trasparente, il prezzo è 29,90 euro, ti stanno consigliando il reggiseno, leggi, leggi che ti consiglia, se volete posso consigliarli, dove prende il reggiseno, sì Antonella, poi in privato scrivimi, perché no? Allora, abito, scriviamo a me, eh sì, se non ti conosce, vabbè, scrivigli a lei, vabbè, vedi, ma è invidiosa, Antonella, scrivi a lei, per favore, vedi che è invidiosa, perché scrive a me, va bene, allora, allora, attenzione ragazzi, questo abito costa 29,90 euro, misure, giro seno, siamo da 126, arriviamo a, Rosalia, sì, si possono ordinare le tute, certo, dimmi che colore vuoi, dici il colore che preferisci, prendiamo l'ordine, a lei già ce l'abbiamo messa nera, ma chi è, cardinale? Rosalia, cardinale, l'abbiamo messa già nera, allora, fino, Carlo, 126, 146 di giro seno dell'abito, 126, sì, 146, vita, 88, fino a 136, ok, lunghezza? poi, aspetta, fianchi Carlo, fianchi arriviamo a 100, circa 156, lunghezza totale dell'abito, siamo a 124, perfetto, è andato ragazze, ecco le misure, allora ragazze, qui possiamo anche prendere i posti di ordine, allora vogliono vederlo senza cintura, esattamente, sì, Maria Antonietta, sicure, perché te cascano per terra? ma come si? ma no, ma tu sei la nostra modella, la nostra immagine del negozio, ma poi ti, si è succhiata tutta figlia, sì, Rosalia, per te sì, vieni, farle vedere, vieni, sfoggia, sfoggia i gioielli, Denise, misura fianchi, di questo vestito, fino a 156 abbiamo detto ragazze, Francesca Claudia, fino a 156 mi sembra, sì, sì, allora, i colori disponibili sono, quello che indossa Denise, che è una fantasia astratta, poi abbiamo, anzi no, quello di Denise, senza dare definizioni, ragazze, l'abito di Denise, perché qui possiamo prendere gli ordini, l'abito di Denise, poi abbiamo, l'abito con fiorellini piccoli, e poi abbiamo, la fantasia astratta, e ce l'abbiamo nel colore rosa, con il nero, e con l'arancio, quindi abbiamo a disposizione, ben tre versioni, con questa fantasia un po' astratta, meravigliosa, sulle serie Denise, magnifica, grazie Maria Antonietta, grazie, ma dillo te grazie, no, dico io, ma noi lo sappiamo già, non mi intrometto, ma perché, perché, non si intromette lei, ma io dico, mamma mia, che poi la parte è pure meglio, però era giusto per capire, cioè, fondamentalmente sì, siamo anche più tranquilli, però vabbè, allora ragazzi, dicevo, abito 29,90 euro, vestibilità, grosso modo, fino a un 56, comodo, abbiamo scritto le misure, infatti, sembra marmorizzata, brava, è vero, è vero, sì, sì, questa fantasia, sì, mi dà pure a me quell'impressione, effetto marmo, allora, color rosa, no, arancio, arancio, poi abbiamo il nero, e abbiamo questo rosato, grazie, me fate ammazzare, sì, Sala, Denise, siamo in due, ok, poi abbiamo la fantasia, quella che indossa Denise, e, ho venduto reggisio, 15 anni, se Denise vuole, mi consiglio, va bene, abito a fiori per Emanuela Calamita, grazie Emanuela, no, non te lo levare, me lo segno io, ah, ok, sì, Francesca, credo di sì, aspetta che controllo, no, mi chiedono se è un po' elasticizzato, sì, ma non troppo, un pochino sì, però considera che, sulla braccia, è il chiffon, quindi, c'è un po' di elasticità, ma non esagerata, comunque, ha un giro braccio, adesso, tanto a titolo informativo, è di, vediamo un altro, allora, per Ale Villa, vestito a fiorellini piccoli, per me, ok, benissimo, quindi sono già due, Ehi, Ale Villa, fa un po' di certe definizioni, che tu manco d'ommaggia, ma io mi auguro solo, che te le ricordi, più che altro, guarda, cioè, definizioni, abito, con il numero a fianco, io voglio vedere domani, come lo capisco, mamma mia, ma che c'ho un'intelligenza, io madonna, eh, infatti, sì, io sono stupita, pecorina, ma che senso, l'intelligenza, ah no, no, ma il pecorino formaggio, si dice così, si dice così, l'intelligenza pecorina, si dice così però, eh, non mi hai sentita, ciao, grazie, ma che senso, no, a mia parte, sento l'intelligenza pecorina, no, sì, si dice così, no, si dice, non è riferito alla pecora, ma è riferito al parmigiano, a me mi fa ridere lui, che fa quella faccia lì, che a me mi fa ridere, Francesca, Denise, facci vedere dietro come sta, a me mi fa ridere, Denise, per favore, ma io ti ho provo, vieni, eccoci, eccoci, per vedere Gesino, come te vado, ma ti vuoi girare, stai dritta, stai dritta, tira su, tira su, Katia Marzo, aspetta le ragazze, che ci sta mettendo il sostegno, madonna, però se ti cambiare, salte fino a qua sopra, cos'è che è, sta tutto dietro, non è, ma fagli il nodo, gira, fagli il nodo, stringi, fai una bella sfida, dopo che è meglio che te ne vado, aspetta, va bene, è sta qua, te credo che è calato, senti, mi sono scordata di rimettere, va bene Maria, va bene, va bene, ma non te cacchiare con me, ma mica c'entro io, allora ragazze, io mica vengo a casa a vestirti, io direi, io direi che è meglio che cacchiare, andiamo avanti, perché sennò qua non usciamo, vai, va bene, l'hanno visto, abito 29,90, vi riscrivo le misure, ma Carlo, un cerotto, ma io penso che pure a Denise, un bel cerottino, ma io direi che se vengo a rima, ma pure te, perché che cosa, hai Elena, stai in negozio, che ti ho fatto a ride da sola, Elena, pensa se arriva qualche, qualche cliente, e ti vede ride da sola, riduccia, guarda, lascia perdere, amore, guarda, non sai che è successo, allora, Tiziana, intanto te ne do un paio, va bene, ok, Tiziana Donetti dice, Carlo, ma sei sicuro che si dice così, Tiziana, onestamente, mi informerò di questa cosa, anch'io c'ho qualche serio dubbio, però, loro dicono così, anche Tiziana qui conferma, io non so se magari loro, tu hai detto qualcosa, va bene, allora, che ti metti, la mano sul cuore, che ti metti, l'anima in pace, adesso capite perché ha detto, la mano sul cuore, ho capito, vediamo i vestiti, sono entrata ora, Lucia Maniscalco, eccoci qua, Lucia ecco qui, arancio, nero, e rosa, si vietta il primo abito marroncino, che senso, come il primo abito marroncino, sicuramente lo zio, quello, quello, forse è questo, non è marroncino, è arancione, ma va a vedere, Antonella Barile, no, devi vedere se è uno di questi, perché questo prevale il marroncino, Valentina, ma non devi spifferare le cose tu però, queste sono cose, cose nostre suono, allora, no, attenzione, Antonella Barile, mi dici per favore, qual era il tipo di abito con marroncino, che intendevi, se era questo, questo, che aveva indosso Denise, oppure, si è quello marroncino, è quello, eh, che ne so, è quello, sì, oppure era questa, che sembra un arancio, arancio, rosa, o mero, eh, qua il messaggio è la nota, e vabbè, io, adesso ci conferma la nostra amica, vediamo, sì, Barile, allora, vediamo il rosa Silvia, per cortesia, allora, questo intanto, era lì, il rosa, eccolo, Lucia, Antonella Barile dice, sì, il primo indossato all'inizio, allora, perfetto, Antonella, prendiamo la tua prenotazione, grazie Antonella, Barile, quindi sempre il solito, quello di Denise, eccolo qui, Lucia Maniscalco, ecco il rosa, bellissimo, con elastico in vita, oh, e mo' andiamo invece su un articolo bello sportivo, allora, c'era qualcuno che prima mi aveva chiesto, di rivedere gli abiti lunghi, che abbiamo fatto vedere nel primo outfit, io adesso non lo ho, Maniscalco, che è il mio, il rosa, sì, grazie Maniscalco, Lucia, grazie Lucia, ah no, Antonella Barile dice no, quello all'inizio della diretta, all'inizio non lo fa, allora forse questi, allora Antonella, perdonami, stiamo parlando di questo qui, ecco il marroncino qual era, il marroncino era questo, poi avevamo il fux e il blu, 29,90 euro, allora Antonella, confermami se era questo, quello che tu volevi, questo era 120 di giro seno, 120 di vita, e 100, oltre 140 di giro fianchi, questo blu mi interessa, misura del blu, allora Lucia l'ho appena detto, giro seno 120, giro vita 120, giro fianchi 140, mi ricordo perché era preciso, 120, 120, 140, no ragazzi, pazzi a, i primi abiti verso le 14, 120 e 30, questi, questi dice, dice questi, questi qua, è che è arrivata in ritardo, la diretta va un po' in ritardo, comunque poi conferma, dice questi, confermaci il colore, ok, lo prende blu maniscalco, grazie Lucia, e penso Antonella, Antonella mi confermi che è questo qui, quello che vuoi? è quello, perché lei aveva detto marroncino, quindi per forza quello deve essere, Antonella, ti abbiamo messo quello con il marroncino, è bellissimo, ottimo, perfetto, confermato, mi rimane solo il fucsia, allora, quello della prima, quello della prima, che era il primo outfit, tutto il secondo, ma non mi ricordo, comunque, per chi fosse interessato, l'ultimo pezzo rimasto, era 29,90 euro, 120 di giro seno, 120 di giro vita, 140 di giro fianchi, ecco, però non mi puoi guardare così, ma come ti devo guardare, cioè, non ti posso guardare in nessuna maniera, ride sempre, tu, dimmi, ma tu che, ma chi ha detto niente? Allora, adesso andiamo su un genere, cambiamo un po' stile, andiamo su qualcosa di più sportivo, povera Silvia, ti arrivano in ritardo, sì, Antonella, arrivano sempre in ritardo, purtroppo è proprio, la tipologia di Facebook, prima arrivano le immagini, e poi arrivano i messaggi, cioè, no, il contrario, com'era il contrario? No, no, prima le immagini, prima i messaggi, e poi le immagini, è vero, eh, anche io, ti vedo così, allora ragazzi, adesso passiamo invece a un giacchettino, diciamo un, uno spolverino però stile tuta, stile, no, è di Silvia, Maria, è di Silvia, che? la gonna, ma che gonna? ma che gonna? ma di che stai a parlare? di Gino, eh? 29,90? 29,90 euro, Lucia, non ho capito, questo è il giacchettino, i jeans, i jeans, la gonna no, non è di jeans, sono pantaloni, sono jeans a palazzo, sono due, allora guarda, abbiamo fatto vedere, due tipologie, il jeans a palazzo, 29,90 euro, va a taglie, dalla 48,00 alla 54,00, poi abbiamo fatto vedere, il jeans classico, sempre dalla 48,00, fino alla 54,00, sempre a taglie, stesso prezzo, 29,90 euro, uno a palazzo, e uno, eh, diciamo, un taglio classico, ho chiamato Gino, ma no, no, voleva scrivere, ma la sventi di ritore, voleva scrivere jeans, ho capito, ok, però chi è Gino, ho detto io, ho capito, allora, Carlo, passiamo le cose serie, che è meglio, allora, questa felpetta, aperta, a modo di giacchetto, però ragazze, non ha, né cerniera, né nulla, prezzo 19,90 euro, cotone garzato, tessuto sempre molto elasticizzato, abbiamo un girovita di 122,00, fino a 150,00, idem i fianchi, lunghezza, 7,7 euro, 19,90 euro, i colori disponibili sono, il grigio bianco nero, quello che indossa Denise, eccolo qua, poi abbiamo anche questo, che è il contrario nei colori, nero, bianco e grigio, vedete la differenza ragazze, i colori sono opposti, poi abbiamo, mannaggia i laccetti, poi abbiamo, i pescetti, no, no, sono laccetti, quelli che mi sto incassando, prima di ridare eravate normali, poi siete diventati matti a star dietro a noi, grazie Antonella, no, 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 assolutamente, che siamo proprio così, ma grazie di cosa, no, che siete diventati matti, questa dietro a loro, ma non è vero, eravamo già così pure prima, che non ci conoscevamo da sufficienza, adesso, ci state vedendo proprio come siamo veramente, la smetti di ridere, allora, quindi la versione nera, bianca, grigia di Denise, poi abbiamo la versione con il blu elettrico, la versione con, non piangere Denise, con il celeste, con il fucsia, ragazzi, questa è un, semplicemente una felpetta, da portare così, aperta, come se fosse un giacchettino, ok, soltanto, ma io non l'ho mai visto, lo sai? Sì, infatti è una cosa nuova, io neanch'io l'avevo mai vista, sinceramente, e poi con il verde militare, come vedete ragazzi, abbiamo anche il cappuccio, eccolo qui, però la particolarità è quello di essere una felpa, ma da portare così, in modo molto sbarazzino, senza, oh madonna santa, senza, ma senza che, ma gli hai fatta la foto? Così, madonna, Denise, ti faremo conoscere, gira, che era la santa, gira a bordo, ma Valentina Benigna, ma nel senso, che gli faremo conoscere, gira a bordo, che comunque, così rimane tutto, tra clienti, diciamo amiche, allora, verde, mi sono fatta, si è andato via, grazie, ma ammazza, perché, Ottagio, Ottavio, gira, a me, a me, lo sai che cosa, mi è venuto in mente, gira, come mi ha memorizzato, il tuo fratello sul telefono, e ho detto tutto, e mi fermo, non si può neanche dire, allora, vedi, Gina a bordo ha scritto, sto morendo, sì, Gina, ti presento Denise, eccola qua, va bene, allora ragazzi, quindi, quella di Denise, bianco, nera, grigio, poi abbiamo, con il fucsia, con il celeste, con il blu elettrico, e con il nero, che sarebbe il contrario, di quella che indossa Denise, allora ragazzi, vi ho rimesso le misure, 19,90 euro, cotone garzato, sì, li portiamo tutto all'ordine, perché non è possibile, Stefano, sì, allora, a me adesso mi viene da dire, non ci mettete il carico, va bene, se no non smettete più, va bene, ok, passiamo, passiamo, alla, maglia, sì, sotto abbiamo una casacchina, cioè ce l'abbiamo, sì, eccola, allora, sotto abbiamo una casacchina, attenzione ragazze, perché qui, non abbiamo una vestibilità, Regina ha scritto, ho detto, non ci mettete il carico, allora, meglio come siete voi, spontanei, dice Tiziana, cianciaruso, sì, sì, un po' troppo però, allora, prezzo Carlo, 19,90 euro, misure, il tessuto è una viscola, qui abbiamo una vestibilità un pochino ridotta, rispetto a tante altre casacche, che facciamo vedere nella linea, mi dai quella, il giacchetto nero per Ippolito, grazie Nicoletta, mia, quella col nero sopra, bianco e grigio, perfetto, perfetto, 124, 140, di giro seno, casacca di Denise per Franca Saveniago, allora, 124, 140, di giro seno, fianchi, Franca o Fiorella, questa è Franca, Saveniago, va bene anche per Fiorella, perché lei è più piccolina, poi, 122, 130 di fianchi, lunghezza, 69, ok, perfetto, grazie, il prezzo è 19,90 euro, i colori disponibili, poi li vedremo perché si possono abbinare anche al pantalone che ha Denise, è molto molto bello, lo vedremo anche nei colori, eh sì, anzi, li metto qui perché così li vediamo, eccoci qua, ragazzi, c'è il color, il color jeans, il bianco, il blu elettrico, il prezzo del pantalone è di 24,90 euro, la casacca che stiamo vedendo ora, 19,90 euro, così come il giacchettino a felpetta che abbiamo visto poco fa, sempre 19,90 euro, qui si può creare un bel completo, molto carino, stile sportivo, insomma, verde di ritare per Fiorella Savignago, grazie, la maglia, la casacca, la casacca, sì sì, perché abbiamo appena detto, sì, Fiorella, brava, perché questa è adatta alla tua misura, nel senso, non è molto grande, che è? Niente, ma prendete sempre, ma lo sentite, pantalone Denise mio, grazie, Franca, grazie Franca, ragazze, io il prezzo, l'ho già detto del pantalone, quindi chi lo quale presentare, è un pantalone stropicciato, pantalone Denise nero mio, permesso, è un pantalone stropicciato, in discosa, prezzo 29,90 euro, oltre al nero che vedete indosso a Denise, abbiamo tutti questi colori, adesso chiaramente vi farò vedere, a quanto prezzo? 29,90 del pantalone, tra poco ti do anche le misure, o le vogliamo dire subito, così, chi vuole ordinare, ordina, ti do le misure, dai Carlo, del pantalone, così se abbiamo fatto tutto completo, le misure, vai, abbiamo, vediamo un pochettino, abbiamo da chiuso, girovita è 86, sì, allargando, aspetta, questo c'è la ciolettina, fino a 100, 122 circa, fianchi, fianchi partiamo da chiuso, 120, arriviamo a 160, fianchi, a 120, 160, ecco le misure dei pantaloni ragazze, quindi ragazze, questo è uno di quei pantaloni, che zitto zitto, già dalla 46, 44, 46, veste, sì, forse 44, no, ma 46 sicuro, perché senza tirarlo, pantaloni, Savignaco, pantaloni nero, anche per me, ok, segnalo ti, che non te lo posso dare, una franca e una fiorella, brava fiorella, perché come immaginavo, hai capito perfettamente, lunghezza anche Silvia, per favore, sì, aspetta che qui c'è il risvoltino, lo allungo un pochino, questi ragazzi non sono molto lunghi, perché sono perfetti, poi uno nero per Nicoletta Ippolito, 87 la lunghezza ragazze, Francesca Claudia, 87 centimetri la lunghezza del pantalone, e io ne ho solo uno nero, adesso faccio vedere i colori, però, perché sono belli, ragazze no, mi fai vedere i colori pure, Giuseppe, infatti, bianco, bellissimo, a me piacciono i più colorati, color jeans, Gina, color Gina, per gli amici, blu elettrico, poi se noi diciamo così, loro scrivono Gina veramente, color beige, baldo, color merdi militare, smetti, poi fucsia, ma questo sono drogate, prima di venire in diretta, e verde acceso, alla Red Bull, ha ricominciato a vedere Red Bull, lei c'ha una bocciona così, vuoi vedere, vuoi vedere la bocciona, valla a prendere, faglila vedere, volete vedere che cosa si è finito Denise, prima di venire qua, che non c'era acqua dentro, è pieno di alcol ragazzi, ecco, ok, perfetto, c'era, grappa, grappa era, era grappa, sì, allora ragazzi, quindi il pantalone dicevamo, 29,90 euro, tanti colori disponibili, in bianco, poi abbiamo, il color jeans, blu elettrico, mio pantalone nero costella, l'abbiamo già messo, mi volete poi così, poi abbiamo il beige, il verde militare, color jeans per Aureliano, grazie Giusy, Valentina ha detto ora, capisco tutto, uxia, e verde acceso, verde perato, ammafiato, bel colore acceso, ammafiato, chi l'ha ammafiato? non lo so, forse leggo la bottiglia, della droppa, poi ribadisco, nero per Agata Giordano, grazie Agata, benissimo, ragazze, ma colorati, sono bellissimi, perché tutti i neri, la vita è fatta di colori, ma cosa è così bello, non solo di sfumature di nero, poi ragazze, considerate che, tutti quelli, che abbiamo messo, sul pantalone, cioè come i colori, tutti quelli che abbiamo, sul pantalone, li abbiamo anche sulle casacche, infatti le casacche, abbiamo il verde, il verde, come era? Prato? Annafiato, annafiato, con la grappa tua, ma io non bevo, allora verde, blu elettrico, poi abbiamo la fucsia, la panna, non vedo il colore, bianco, e color jeans, che siete matti, ma questa volta è proprio questa, grazie Gina! detto da Gina, da domani Gina, tu sei jeans, mero per Agatha Giordano, no da voto, oh ragazze, non lo passano, ne ho capito, guardate ragazze, anche qui, che carino questo abbinamento, oppure, vediamo anche l'abbinamento, che ne so, con il bianco, guardate qua, molto carino, chiaramente io faccio vedere, il tono su tono, ma poi il nudo può fare, l'abbinamento che preferisce, che ne so, nella rossa, conferma la grappa di Denise, ciao Mirabella, benvenuta, ha scritto, 1,50 grigio, per Sandra Pezzone, verde e blu elettrico, maglia verde e blu elettrico, per Agatha Giordano, per Pezzone vuole il 50, taglia 50, grigio, pantalone, ma anche tu c'è il pantalone, è una battuta? è una cosa che è una battuta, secondo me, c'è 50 sfumatori di grigio, ah, lei ha messo, ok, secondo me, gli ha scritto male, c'è stata una cosa strana, perché io ho detto di nero, non c'è solo la sfumatura di nero, ok, a lei ha messo, infatti, ragazzi, anche il fucsia, per esempio, guardate che carino, anche qui, bello l'abbinamento, il pece, per esempio, con il verde militare, guarda che bello, 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 è bello così, è troppo grande, perché sennò, a me dispiace tanto, che non posso comprare per adesso, però vi seguo sempre, vi condivido, tranquilla Valentina, arriveranno tempi migliori, per tutti, speriamo, Carla, hai segnato il pantalone nero, costella per me, Nicoletta, sì, so tre volte, Nicoletta, te ne ho messi tre già, Nicoletta, ogni volta che tu lo confermi, te ne aggiungo uno, te ne aggiungo uno, domani, quando ti contatto, ti dico, guarda, dico lei, tre pantaloni, costella per te, Tiziana, mi fai morire, con i tuoi dialetti, bellissimi, mira bella Roberta, sì, che poi, Tiziana, gli parla tutti i dialetti, ma in realtà, non c'entra, ma adesso, ma tu, ma di che origine sei, che taglia sei, che marca sei, la mano, no, la mano no, vado a cambiare, vado a cambiare, prezzo, ci chiede Giovanna, il prezzo del pantalone ragazze, Rita che hai scritto? oddio, io non l'ho letta, neanche io, allora, Giovanna di Corcia, il pantalone, 29,90 euro, la casacca, 19,90 euro, e il 19,90 euro, anche il finto, finta felpa, eccola qui, sempre 19,90 euro, cioè i pantaloni, vestono tagli a 46, Paola, assolutamente sì, partono da una 46, sì, mi dai la misura del pantalone, l'abbiamo già scritta prima, quant'era Carlo? Ce l'hai? Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho, ve le mando subito ragazzi, le misure del pantalone, Vina te le sta riscrivendo Carlo, scelpa a me, passate, 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 eccoci qua, un attimino ragazzi, arrivano le misure del pantalone, eccole qua, ok, le avete in sovraimpressione ragazzi, per tutte le ragazze nuove, ricordatevi di confermare via Whatsapp al 338 2321 430, inserendo nome e cognome e il vostro screenshot dell'outfit che ci volete comprare, cambio colore dei pantaloni, ci dice Giusy Aureliano, lo prendo panna se è possibile, lo cambia, certo, se vuoi te lo do per Giusy, dai, ma se vuoi tu lo puoi mettere qua, io poi mi prendo tutto, non è un problema, va bene ragazzi, non vi preoccupate se non potete comprare, almeno condividete, aiutateci a crescere, allora mi fate vedere di nuovo i colori delle maglie, Silvia? Allora, bianca, color jeans, fucsia, beige, color burro, e nera, eccoli qua, quando vedi il tassico sopra come vuoi chiedere, può vestire una 52 dice Carmine, Carmine, Yolanda Cibelli, assolutamente sì, fino a un 54, pantalone e maglia jeans, colore jeans, per Paola Cancellieri, sia il pantalone che la maglia di colore jeans, grazie, eccola qui, Allora, modello maglia color burro, tettina per rovi, grazie Pina, Carlo, già confermato a Silvia, che cosa? Però Maria Antonietta, quello che vuoi me lo devi dire in diretta, poi la conferma su Whatsapp, ok? Camicia multipoli, Casa Grande, confermo abito gemenale, ok, perfetto, va benissimo Maria Antonietta, ma chi è? Casa Grande, ah sì sì, sì sì, no, pensavo che mi avessi chiesto altro, adesso passiamo a questo nuovo outfit, questa maglia, le casacche costano 19,90 euro, ok, adesso passiamo a questo nuovo outfit, allora, qui abbiamo una casacchina, modello barchetta, tessuto in raso, chiaramente ragazze, non necessariamente, non dovete indossarlo come sta facendo Denise, ma potete portarlo anche su, con uno scollo tondo, semplice, normale, allora, allora vai, quella di prima era 19,90, questa invece? Questa uguale, 19,90, e non me ne ero accorta, pensavo che stassi di più, vabbè, oh ragazzi, ma su, ma un pochino di serietà, allora, sai come diceva Rambo? Eh, Adriana, ok, pantalone nero e maglia nera, per Carmine Yolanda C, perfetto, nero e maglia nera, grazie, per intanto te li do qua, grazie, Yolanda, ti ricomincio a dare, allora, casacca in raso, 19,90, se no, allora, siamo a circa 140, 144, fianchi, aspetta che mi ha chiamato, 140 circa, e lunghezza, intorno ai 75 centimetri, grosso modo ragazzi, perché il modello è a barchetta, diciamo che, non saprei di preciso dove prenderla, diciamo dai, 65, 75, perché a seconda di come viene posizionata, va bene, eh sì, perché se la viene posizionata, è bellissimo questa baracchetta, tantissimo, allora, prezzo 19,90 euro, colori disponibili, quello che indossa Denise, ecco, è quale, vero? Annalisa Falchi, Annalisa Falchi dice, Antonietta, come Antonietta, chi è Antonietta? Andiamo bene oggi ragazzi, povera Silvia, per scrivere, prima Gina, ma chi è Antonietta? Eh, non lo so, prima era Gina, ma Antonietta, brava Annalisa, guarda, Annalisa è l'unica che si ricorda, sempre di condividere, voleva scrivere condivisa, ha scritto con Antonietta, no, ma che c'entra, dai, ma no, forse, casacca raso che indossa Denise, per Cantagallo, grazie, Anna Maria, eccola qui, signor, è arrivato il pacco, grande Pina, meno male, allora, cioè, non è che meno male che di sono, non arriva, però mi fa piacere quando arriva durante la diretta, fa più caramba, chi è? Pina Perrone, no, il morbido, ah, il morbido, mia col turchese, Nicoletta Il Corco, bellissima, brava Nicoletta, quella là, tu disse questo, sì, eh, attenzione, attenzione, eh, attenzione, reggi questa, prendiamo le misure, eh, allora, mi aggiungi una nera, Carlo, Agata Giordano, sì, sì, Agata, e che ne so, Agata, di che cos'è, non dobbiamo aggiungere, di maglietta, ma che cos'è che aveva preso, una casacca, aveva preso un pantalone, una maglietta nera, vuole che gliene aggiungi un'altra, poi, Maria Rosario invece dice, oh, Agata, ma è che è una battuta, no, 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 allora abbiamo per, De Turris, Celeste, lo scrive, dai, De Turris, Celeste, per me, allora, vi fate vedere un attimo, sta maglia, allora, raso, e pezzi, fornitore, Celeste, raso per Maria Rosaria De Turris, aspetta, io non ho ancora iniziato, vai, allora, casacca, ma smetti, è questa, ho capito, fucsia per casa grande, te ne è in più, allora, dopo devi andare su, io ci sono, io ci sono, dimmi tu da dove vuoi partire, partiamo, dall'inizio, te l'ho già detto, la prima è, Celeste, per De Turris, ok, e so tre, queste ce ne abbiamo due, dagliene una, no, oh, devi star citta, che mi stai sconcentrata, no, non parlo mai, e ma quando parlo, fa il macello però, poi abbiamo, Agata ci conferma adesso, maglia nera arancione, per Angela Barboni, vai, ah, ma non c'è sta lì, eccola, sta lì, me le prendo dopo, eh sì, prima segnatele, così stai tranquilla, poi Fucsia per Casa Grande, Agata Giordano, la maglia nera, però non capisco, la nera sarà quella, mi sa, lo sai? ma non è quella di prima, di prima, quella così nera, col cuore, dopo la Giordano, Casa Grande la vuole Fucsia, poi, basta, ah, tutti i sui burdali, tre erano, no, Nicoletta è Pondito Turchese, ce l'hai messa? ah, ah no, l'abbiamo già messa lì, l'abbiamo già messa là, posso? sì Nicoletta, te l'abbiamo messa, non ce l'abbiamo messa, poi Fucsia per Maddalena Pagano, grazie Maddalena, grazie Nicoletta, grazie a tutti, la Turchese, i regali, ma quali i regali? e l'altra chi era? sì, ma ora sei cattiva, condivido sempre, brava Rita, nera arancio per la raspata, allora aspetta, Pagano, Fucsia, c'è pure una casa grande Fucsia, già fatto? sì, poi quella sotto, abbiamo, maglia Fucsia per Pagano, abbiamo già fatto, la raspata, nera arancio, ti sembra a te Nicoletta, invece stanno prendendo, stanno scrivendo tutti, io e Denise facciamo casino, loro invece segnano bene, la celeste per deturismo, l'hai messa? yes, ok, e abbiamo anche un'altra celeste, quella turchese, ti ricordi che aveva chiesto? Ippolito, ok, perfetto, a posto, ci siamo? Ippolito sta già lì, allora mi dite che cos'era la Giordano? la Agatha che voleva? sì, vuole questa con il cuore, anche nera, nera, l'ha presa di un altro colore, perché ha scritto quella nera, metti maglia col cuore nera, forse vi sicuri che Agatha l'ha presa di un altro colore? Franco Adriana, stai parlando dei leggings in Senegopelle? Sì, ce li abbiamo ancora, tra un pochino li facciamo vedere, perché, sì, Nicoletta, abbiamo messo questa per te, tranquilla, mi confermi che è questa quella che vuoi? Nicoletta sta scrivendo di mettere questa, che tizia, c'è l'essere? No, pina perrone, ci sono, non ti preoccupare, cioè, non messa, presa, ma già l'hai preso sto colore? Sì, quella di Denise, sono finite? No, la aggiungiamo, pina perrone, pina perrone, quella di Denise, si sa che vuoi fare, vieni qua per scivolare, non ho capito, sciovie, scio, sciovie, poi ragazze, sciovie, 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 ho capito, ma non lo capisco, pensavo che scrivessi in italiano, e tu perché sei romanaccia, e allora leggi così, prezzo e taglia, allora, 19,90 euro, la taglia è unica, adesso Carlo rimette le misure, la traduzione, grazie Francesca, non l'avevo capito, scusate, sono un po' imbranata oggi, sì, sì, perfetto, Nicoletta conferma che è questo chiaro che le vuole, come l'hai chiamato, celeste? Turchese, come l'hai scritto tu? Eh, Tiziana, con te ce l'ho? Celeste, celeste, che c'hai, il momento di, devo capire una, ma cosa che devi capire? sciovie, 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 papà scioviaggi, ma che vuoi scrivere? De raso, a barchetta, ma più di così, che vuoi scrivere? Barchetta, uff, io dico che, ma perché mi stai trattando male? Possiamo andare avanti? Allora, ok, siamo sicuri? Io voglio la barca, a barchetta a me piace, Tiziana, adesso questo te ne riprendi, ecco, i pantaloni, dobbiamo fare i pantaloni ancora, sì, il jeans, è vero, che jeans, perché c'è stato un altro jeans, ah sì sì, quello a tre quarti, ok, per Adriana, chi è? Franco, quella che indossava Denise, guardate che carina, non sa brillare, per Nella Rossi, i pantaloni che indossa Denise, dici la taglia, è una taglia unica? no, parte da una XL, Adriana Franco, sì, Franco, Adriana, quella che indossa Denise, quindi quella è quella blu, allora, il pantalone di Denise, che è un modello Zara, un po' corto, morbido, ah, mi si cambia, fa vedere i pantaloni, mi mettiamo un corpo, è elasticizzato, allora, tessuto elasticizzato, però attenzione ragazzi, il prezzo è 19,90 euro, e abbiamo le taglie, XL, XXL, XXXL, Denise sta indossando per me il rosa, Nicoletta Milan, perfetto, grazie Nicoletta, Nicoletta, no Nicoletta, Denise sta indossando una doppia XL, il rosa, perché il rosa sta indossando il pantalone, ah, stiamo parlando di Nicoletta, Nicoletta Milan, raso rosa, cos'è il pantalone? è un gaucho? Sì, esatto, è un gaucho, faccio però quale direbbe così c'è veramente un jeans per me ornella giovara ornella mi dici se xl doppio o tripla per favore 19 euro e 90 ragazze compresa chiaramente la sua cinturina per me questo g 130 di fianco ti diamo la taglia più grande nicoletta 2xl per me allora tizia trombetta modello zara chiamano cinza zara a sì 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 me sto a morire ragazze veramente non è possibile ornella 2xl per francesca trombetta con su questo siamo contente ok oggi ci siamo confermato fornitore milan mettiamogli la tripla x per sicurezza dovete dire tutto quanto è perché io scrivi milan la ricoletta milan 3x francesca trombetta 2x un attimo e nicoletta e pollico 2x prombetta 2x nicoletta che taglia ti do nicoletta è già messo sì 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 perfetto ok ci diamo ok ragazzi allora 3x per margherita cappai ok grazie margherita tanto ragazze il tessuto è elasticizzato e veste molto molto bene questo è un tessuto non è tessuto fermo un tessuto bello elasticizzato quindi andate tranquillissime come vestibilità 19 90 unico colore xl doppia xl doppia xl tripla xl e ho detto tutto ma che vuoi cambiare invece stanno a fare cose mannaggia la taglia più piccola quanto fa gina guarda ti posso assicurare che la xl vai tranquillissima gina perché la xl da tessuto chiuso fermo siamo a 70 di girovita girovita e 100 106 di giro fianchi senza tirare gina quindi vado tranquilla con la xl no no gina va benissimo non posso mettere pure io tranquillissima gina mi chiamo la xl la mia quarantena con voi non spasso meno male c'è scritto che ci siete anche domani e dopo domani mi fa piacere maria cioè non è che mi fa piacere che sei in quarantena attenzione dicevo mi fa piacere che ti diverti con noi ce l'ho io grazie al cavolo non mi fa di queste cose in diretta io ho trevato ma dai la 2 xl quanto fa di fianchi vediamo nicoletta allora senza tirare nicoletta senza tirare siamo a 120 118 120 se tiro arriva a 136 se tiro ok nicoletta quindi diciamo che una doppia xl è una buona via di mezzo insomma che c'è i pantaloni a zampo anzi vedi tizia vuoi io ho carla mura che scrive gaucho xxl che cos'è? il gaucho era questo qua e che quante xl? doppia? due ok vai io se qua te la posso dare ti se la puoi basta me ne rimane uno qua da tu tanto adesso ti sto dando anche questi eh quindi ti puoi prendere quello che ti pare ottimo io basta che lo so e lo vedo anzi ti do pure la triple e finisce la stessa vai vai tanto ce la vedi ok ragazze ti ricordo che mi sono rimaste le ultime due casacchine con il cuore argentato a 19,90 euro una bianca e una fucsia ultimi due pezzi eh e poi le ultime pelpette eh giacchetto a felpa così un po' sportiva a 19,90 euro con il blu elettrico con il celeste con il fucsia e con il grigio ah poi le ultime due casacchie sempre a 19,90 euro nera e con i fiorellini ci avevi anche il fucsia un verde militare vedi? figura? vabbè allora li rimetto qui ti facciamo vedere questo problema ok andiamo avanti va che è meglio rimedi allora attenzione il prossimo outfit allora passiamo alla bella camicia in raso con questa sorta di fantasia può un po' stile anni 80 allora qui abbiamo sulla vestibilità sicuramente un po' più grande di quelle precedenti allora il prezzo è 24,90 euro è un tessuto in raso 27 allora il prezzo abbiamo detto 24,90 abbiamo un giroseno piuttosto grande perché? perché lo stile fai vedere alza le braccia lo stile è a pipistrello quindi rimane piuttosto grande stupenda la camicia dice Francesca infatti è bellissima arriviamo fino a 170 di giroseno e fino a 146 circa di giro fianchi quindi il prezzo abbiamo detto lunghezza ah scusami vera la lunghezza invece ma io sto lunghezzando quanti pari non la voglio di mai 70 vai allora ecco le misure ragazze che state a fare? 20? te l'ha detto 27? ah scusa non lo so vai ma sta spogliando tutto a basse molto bene mi hai messo mai in giro per non darti fastidio allora ragazzi ma che ti frega dagli fastidio uguale allora oh che hai fatto? chi mi deve dare fastidio? allora scusatemi mi sono persa il prezzo della felpa aperta 19,90 Enza la felpa aperta stiamo dicendo eh ora invece siamo passati alla camicia in raso bellissima stile anni 80 abbiamo diversi colori questa con fucsia poi abbiamo la versione con il lilla la versione con il blu chiamiamola blu perché quella di Denise invece prevale proprio il verde lampante e quindi per non sbagliarci ragazze diremo fucsia lilla blu e la verde ma perchè ricetta? 24,90 euro ragazzi qui abbiamo una vestibilità più giusto grande poi per carità se la mettete all'interno di un pantalone di una conna chiaramente avendo la forma pipistrello sicuramente è bellissima camicia in raso lilla per Angela Barboni ok tizia vai Barboni lilla vorrei quella con il nero grigio e bianco per Enza C c'è la felpa ah ok bravissima grazie Enza lilla allora lilla sì e poi anche fucsia no fucsia e Nella però sì fucsia Nella Rossi allora Angela Barboni abbiamo la la raso lilla poi hai rosa questa è per Cice Cice Enza Enza Cice fucsia poi aspetta abbiamo fucsia e Nella Rossi Anica Alessandrini Turchese si possono ordinare sì Francesca chiaramente si possono ordinare tra oggi e domani più giorni passano e più nel magazzino potrebbero terminare e dice il nome Cice? Enza Cice ci c'è allora vi rifaccio vedere un attimino i colori disponibili allora quella che indossa Denise è verde poi abbiamo la versione lilla la versione eccola qui con il blu perché all'interno come vedete c'è un po' di blu elettrico poi abbiamo la versione con il fucsia e la versione verde che ha Denise quindi abbiamo quattro colori a disposizione ragazze il prezzo è di 24,90 euro ok Francesca grazie ti scrivo stasera va bene Francesca prima mi scrivi e meglio è perché io domattina mando un ordine nei magazzini e confermo il numero dei pezzi ordinati prima, durante e dopo la diretta praticamente perfetto allora passiamo facciamogli vedere di nuovo i colori e passiamo al pantalone va bene sui colori allora vi faccio vedere i colori per chi vuole ordinarla anche fuori dalla diretta abbiamo il fucsia vi rimetto anche le misure ragazze così potete il verde quella che indossa Denise poi abbiamo il blu è roseria poi il lilla ultimo colore 24,90 euro ragazze come vedete è una bella camicia molto ampia stile pipistrello quindi bella ampia sul giro seno e va a stringere un pochino sui fianchi il tessuto in raso ha un po' di elasticità ma non tantissimo perché raso si stende un pochino ma senza troppo esagerare allora io direi passiamo al pantalone che c'hai il pantalone allora ragazzi allora ragazzi invece il pantalone che sta indossando Denise è un modello a zampa anche qui ragazze se necessario possiamo prendere gli ordini è una taglia unica e il prezzo è di 14,90 euro e il procedo del darvi le misure così vi potete regolare per quanto riguarda la sua vestibilità allora Carlo pantalone a zampa 14,90 euro si può supponere che tu dovresti scrivere mentre io lo dico invece che state a ridere ma perché state a ridere? no voglio lezze non si può ma no guarda poi andiamo a prendere quel foglietto grazie vediamo che ha scritto allora Carlo 14,90 euro per Angela Barbo ti do le misure Carlo 90 di girovita fino a 136 anche oltre vai 90 136 esatto forse arriviamo anche a 140 di fianchi invece partiamo da chiuso che siamo addirittura a 110 se lo tiro arriviamo a 150 la lunghezza la lunghezza te lo dico subito ragazze è un pantalone come vedete si ha zampa come stile allora la lunghezza è 105 cm perfetto ecco le misure ragazze il nevo te lo posso dare tizia Barboni Angela eccolo qui ok allora 41 ragazze 14,90 questo pantalone in raso si esatto allora 14,90 taglia unica Carlo vi ha già scritto tutte le misure quindi parliamo di un girovita che va da 90 fino a 136 ma io direi anche 140 perché ho visto che si tendeva ancora si estendeva ancora fianchi da 110 a 150 anche sui fianchi tirava un altro pochino si poteva allargare un altro po' tessuto chiaramente molto elasticizzato articolo già primaverile è una maglina di viscosa bella morbida molto elasticizzata colori disponibili il verde che indossa neri per Susi Merci grazie Susi grazie Susi poi abbiamo Susi questo però è lo stesso modello di quello che io ti devo mettere da parte eh vabbè lascialo segnato comunque ne abbiamo parlato prima della diretta va bene Susi siamo a posto Samantha Trotta nero per Trotta grazie ragazzi anche Fusia verde chiaramente il nero lo vedete già qui poi abbiamo il color sabbia il blu elettrico no dice Susi Merci non è lo stesso ah non è lo stesso va bene allora ne parliamo domani va bene tanto segnalo allora Susi domani ne parliamo meglio yes allora quindi verde acceso quello che indossa Denise poi abbiamo il Tiffany abbiamo il blu elettrico il sabbia il nero e il fucsia su fucsia perché sta doppio qua che non ci serve ecco mettiamolo via ok eccoli qui i colori sei colori a disposizione compreso quello che indossa Denise pantalone a zampa una maglina bella morbida 14,90 chiaramente stile aderente come vedete però si ammorbidisce si allarga sul all'altezza insomma del polpaccio della capiglia 14,90 euro sei colori a disposizione fantastico allora marrone per Antonella Barile grazie Antonella si e nero per Rosetta Porrello si e blu elettrico e anche blu elettrico per Giusy Aureliano quindi Barile marrone Antonella Barile poi Porrello Rosetta nero nero e Aureliano giusis blu elettrico poi nero per Anna Anna Maria Cantagallo a zampa c'è pure stella Anna Maria Cantagallo poi verde per De Turris e nero per Romaniello c'è sabbia dice Barile Antonella si si sono tutti no pure nero e verde stella Romaniello poi Casagrande Fucsia dimmi dimmi il verde ti serve il verde? Romaniello? De Turris è il verde Casagrande Fucsia no aspetta mi dici Romaniello Romaniello c'ha nero e verde poi De Turris verde si poi Barile sabbia c'è sabbia vero? si si tutto ordinabile nessun problema ma sabbia è marrone o è sabbia? è sabbia è sabbia pure quello di prima è sabbia scrivilo come ne pare tanto solo quello c'è non abbiamo alternativi di colori Barile sabbia poi abbiamo a seguire Casagrande Maria Antonietta Fucsia e consiglio Sara consiglio nero mentre Silvana Giacquinto chiede la taglia che le metto in sua impressione è taglia unica se l'abbiamo già messa sopra le riscrivo poi beige per Carla Mura aspetta eh lo avvicini alla camicia fantasia Fucsia ci chiede Carla va benissimo si ottimo confermamelo Carla così te lo mettiamo da parte dobbiamo aspettare sulla conferma di Mura ah io l'avevo scritto ok Carla dici se va bene? ho messo il pantalone è piaciuto tanto è comunque il momento di punta allora capite che pesavo 120 kg e mi chiamo Barile a sorella ah 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 Sara consiglio sabbia me ah pure sabbia si 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 messo Sara mi fate vedere vestiti che non li ho visti quali dici Maria Giuliano questi qui? allora abbiamo fatto vedere queste tipologie qui che ne abbiamo sono rimasti solo questi due colori 29 e 90 e poi è rimasto l'ultimo ha detto lo prendo Carla va bene Carla e poi è rimasto questo con una vestibilità un pochino più piccola rispetto a questi due sempre 29 euro e 90 sono fucsia grazie Carla perfetto ragazze fate i vostri ordini vi ricordo questo pantalone meraviglioso a 14 e 90 adesso passiamo un completo quello che vuoi fare facciamo no perché mi devo fare spazio per quella dammeli allora adesso si si è spontanea un po' sta cerniera mamma mia ma se la mette ficcata fino a qua sopra è troppo non la via di mezzo madonna c'ho pure l'antrofucsia qua uno ce l'arrivi metti qua metti qua perfetto vieni avvicinati così facciamo vedere tuta cerniera allora attenzione perché passiamo a tuta cerniera 26 scusa allora Carlo questa è una tuta con cerniera sulla casacchina è un cotone elasticizzato bella morbidissima prezzo del completo è di 29 euro e 90 ti do le misure questa è una vestibilità bella morbida 29 e 90 tutto il completo esattamente pantalone più casacca allora siamo a 130 fino a oltre 160 di giro seno idem per gli altri lunghezza della casacca siamo a 76 76 questa è una vestibilità fino a un 58 60 e tranquillamente mi rivedo la diretta ho perso degli altri i miei poti sono venuti da fare la vestibilità allora il pantalone siamo 88 fino a 158 di giro vita 26 mentre intanto basta che la chiami con il nome suo tuta con cerniera non ci possiamo sbagliare giro fianchi invece siamo 130 arriviamo a oltre 180 quindi ragazze se non si tira è una vestibilità diciamo normale diciamo un 52 54 però la sua vestibilità la sua estensione ci permette veramente di arrivare a una larghezza piuttosto importante io direi tranquillamente fino a un 58 pomodo allora i colori a disposizione ragazze queste sono il bordeaux che indossa tenise poi abbiamo il grigio il verde militare eccolo qua il color jeans l'altra volta ci avevate chiesto delle tute noi abbiamo provveduto settimana scorsa ti ricordi ci hanno chiesto le tute ottaneo nera chiaramente e basta allora parliamo di nera ottaneo grigia verde jeans e la bordeaux che è quella che indossa la nostra Denise allora il prezzo abbiamo detto 29,90 euro è un bel cotone elasticizzato bello morbido una vestibilità ottima eh fate il vostro ordine per me il pantalone zampa sabbia per Annarita la raspata grazie Annarita grazie Annarita Maria il prezzo è di 29,90 euro incluso di tutto tutta jeans e nero per Sara consiglio benissimo comunque vi vi rimetto il prezzo e la taglia ragazze eh così avete tutto mi dici che cosa hai detto Sara consiglio nero e jeans mentre carla mura nero e jeans e cosa? la tuta generale gira tuta tuta cerniera consiglio sì jeans e nera carla mura carla mura bordo sì e susi merci nera hai rimesso di nuovo le misure? sì sì perché ok ok tre sono vendute quindi no verde per verde per sisti grazie Michela hai visto? hai visto? vai giù sì l'abbiamo messa abbiamo messa sì sì messa quella ok ragazzi ricapitoliamo allora abbiamo preso un po' di ordini allora la bordo quella che indossa Denise chiaramente color jeans ve le faccio rivedere i colori tranquilla va bene Sara anche se non confermi stai tranquilla ci pensiamo noi Susi Mersi che colore l'avete messa? nera? due ne aveva presa Mersi no ha scritto nera no solo nera perdonami solo nera loretana Lorenzini verde militare grazie Loretana verde militare eccolo qui ciao Loretana tanto c'è solo quello di verde vero? sì poi abbiamo il grigio ragazzi vi ricordo che è un cotone bello elasticizzato una vestibilità notevole che arriviamo fino a un 58 60 e soprattutto un prezzo piccolo piccolo perché pantaloni e casacca a 29 euro e 90 ottanio strano che nessuno l'ha prenoto a panni troppo caruccio bello proprio un ottanio bello intenso Sisti ha scritto anch'io verde grazie Michela e nera alla calcola che Sisti noi l'avevamo si l'avevamo già segnata una di Sisti Sisti l'aveva presa già verde ah no già l'abbiamo scritta allora a posto ecco qui anche nera ragazze ok perfetto si ha solo riconfermato pensavo che era un'aggiunta di colori invece è solo una conferma ricordo ragazzi questa tuta a 29,90 guardate anche il bordeaux che indossa Denise spettacolare tuta cerniera elasticizzata in cotone elasticizzato include la casacca e il pantalone ok io direi in davanti vediamo che abbiamo ancora tante cosine anche perché sono le 7,90 allora questa dammela a me così la metto lì allora ragazzi vi ricordo la tuta bordò nera ottanio grigia jeans e verde militare ecco tutti i colori disponibili perfetto ci siamo allora ok ti ti io devo fare di spazio te le metto qua prendi quello che vuoi ok vieni che c'hai adesso ah vieni che le cose c'hai le canotte no no top 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 attenzione ragazzi abbiamo dimenticato i numerali ci hai metto 2 secondi vabbè ma tanto quelle aspetta vediamo se ce la facciamo con le fantasie a capire allora facciamo su le fantasie due reali ma diciamo che le fantasie in realtà sono allora Silvia camicia bianca nera incatenata di prima c'è ancora alle villa si eccola là si eccola qui perfetto grazie eccola qui la mettiamo allora allora vediamo un attimo vediamo se riusciamo a capirci qualcosa questo è un modello questo è un altro grazie Ale vabbè se gli diamo una definizione non è così difficile eh perché sono 1, 2, 3, 4, 4 fantasie diverse la grappa ah ma tu parli di quelle sì perché io pensavo astratta fiori e marmo astratta marmo e fiori esatto sì ok allora passiamo all'articolo successivo ragazze eh stiamo passando a una canotta in raso con pizzo prodotto top prodotto top fantasie nuove soprattutto abbiamo un giro se al prezzo 14,9 sì sì vai mi dimentico sempre eh ma quella la conosciamo allora giroseno arriviamo no aspetta tessuto fermo attenzione per le nostre amiche più piccine 108 di giroseno fino a 140 perfetto fianchi invece siamo fino a 140 camicia in raso verde per nella rossi 140 no? scusami eh sì Carlo e lunghezza? lunghezza camicia in raso 7,4 camicia in raso verde nella rossi sì quella Antonella mi confermi che è questa qui? sì immagino di sì immagino di sì che avanzano queste? ti non ce le avevi che prenotare la grigia? no? vado 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 che indossa Denise che è una fantasia floreale grande ed è il prezzo 14,90 fantasia con i fiori grandi abbiamo il colore di Denise che è un beige poi abbiamo la fucsia e la blu quindi abbiamo tre colori diversi a questo punto allora queste sono le floreali ragazzi queste sono le floreali veramente con i fiori grandi abbiamo il blu il fucsia e il nero canotta rossa quella che hai misurato grazie ah perfetto per Nicoletta Longhi grazie Nicoletta perfetto questa qui per Nicoletta precisissima lei brava Nicoletta grazie Nicoletta allora questa che indossa Denise ragazzi quindi abbiamo la chiameremo fiori grandi quindi la beige nera e beige poi abbiamo la fucsia e la blu ok Nella ha detto di si che va bene veramente grazie Nella allora questo per quanto riguarda la fantasia di Denise poi abbiamo la fantasia come abbiamo detto marmo fantasia marmo abbiamo il colore nero il blu e il verde eccoci qua anche qui abbiamo tre colori diversi questa ragazze fantasia marmo cardigan di Denise per Nella Rossi eh va bene ok Antonella mo la segniamo 138 euro Nella si verde marmo mia grazie Floriana diciamo solo il prezzo del cardigan così 19,90 perfetto il cardigan 19,90 le canotte e 14,90 Nicoletta Ippolito top nera fiori grandi rossi e verdi vai top nera fiori grandi rossi verdi poi abbiamo Nicoletta stai parlando di questa mi dai conferma per piacere fantasia verde marmo per caldarola barboni nera marmo spina fucsia fiori grandi ti ripeto eh allora caldarola marmo verde barboni spina perfetto poi abbiamo Nicoletta Longhi nera no lascia perché non la segna Nicoletta dovrebbe essere questa qui perfetto quella dovrebbe essere Nicoletta si sono le stacizzate ragazzi assolutamente si hanno proprio l'elastico dietro ora ve lo facciamo vedere eccolo qui ragazzi la spallina regolabile e l'elastico però Nicoletta ha scritto nera marmo ma penso che le vuole tutte e due perché ha messo grandi fiori rossi dovrebbe essere quella poi Nicoletta Milan questa verde che c'ha in mano barboni l'avete messo qui spina allora ci chiede Tiziana quella del Denise è sul marrone? no è sul nero ragazzi beige nero e bianco i colori beige nero e bianca Nicoletta Longhi anche nera marmorizzata Tizia vai Isabella che ha già mi sono le stacizzate Milan verde l'avete messo? si si adesso marmorizzata Nicoletta Mil quella verde ok a posto mi sa che abbiamo pareggiato no no Nicoletta Milan vuole questa ah tu quella marmorizzata la chiamiamo Nella rossi camicia verde raso si Nella l'abbiamo già messa la camicia per te Milan verde marmo l'ha riscritto credo che già ce l'hai vero Tizia? si si a posto nera marmo gaggiano Isabella poi Nella rossi ha anche il cardigan di Denise si quello lo vediamo dopo si Antonella lo mettiamo dopo si 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 marmo nera gaggiano si la nera che ha in mano Longhi Nicoletta Longhi la nera che ha in mano si la marmo già ce l'abbiamo messa Nicoletta te l'abbiamo già messa ragazzi le canotte ci sono non vi preoccupate abbiamo tutti i modelli stiamo prendendo gli ordini ragazzi quindi state tranquille abbiamo il nero di marmo la verde con il marmo e la blu questo per quanto riguarda lo stile marmo ah no Nicoletta vuole solo quella con i fiori nera la marmo non la vuole ah ok ok va bene a posto ok ok va bene ok no attenzione Nicoletta Ippolito vuole quella Nicoletta Longhi vuole quella di marmo abbiamo sbagliato noi a leggere pure io mi sono confusa eh Longhi l'avevi scritto capito Longhi e marmo nera Nicoletta Ippolito è quella che c'è in mano perfetto no ho confuso no no pure io l'ho letta male io ho scambiato Nicoletta Ippolito non è Longhi questa è Ippolito esatto potete andare a Nanagrafe e cambiarvi il nome il cognizio è il cognizio così iniziana si semplifica la vita Francesca no ancora non abbiamo fatto vedere il pantalone non ci siamo arrivati ancora no allora Ippolito la chiamo no invece Ippolito basta uno è Longhi uno è Ippolito siamo a posto allora ritorniamo a noi allora il marmo l'abbiamo fatto vedere i fiori grandi li faccio rivedere un attimo vai allora questa è quella che indossa Denise fiori grandi con il beige poi fiori grandi fucsia e fiori grandi blu nero marmo canotta per Nella Rossi ok grazie Nella poi abbiamo marmo sì infatti però tranquilla abbiamo fatto Nicoletta abbiamo letto bene allora poi abbiamo una bordeaux ultimo pezzo e una con i fiori colorati fiori colorati e bordeaux eccole qui fiori colorati e bordeaux e poi infine ultima fantasia che è quella astratta un po' come le casacche che abbiamo visto prima i blazer di prima abbiamo anche qui la canotta astratta nera abbiamo la fucsia allora i fiori colorati fiori colorati per Angela Barboni questa questa eh immagino che è questa no? fiori colorati sì c'ha ragione l'ho chiamata io così andiamo bene allora ragazze l'astratta abbiamo il fucsia il nero il blu e il verde eccomi qua mi avvicino un pochino così si vedono anche meglio allora la bordeaux è l'ultima fucsia per Nicoletta Longhi si immagino che sarà questa è quella che hai fatto della terza è quella che hai fatto della terza si si fiori grandi beige che indossa a Denise grazie Maria Antonietta casa grande casa grande quella di Denise ce l'hai una dammela te la do tizia? no dopo fa confusione ok va bene casa grande beige con fiori grandi ok allora faccio un riassunto poi andiamo avanti con i cardigan che ha Denise indosso anche astratto nera grazie Nella l'hai segnata di sia astratto nera Nella? che colore? astratta nera astratta nera grazie Nella ok fa male la schiena ok ragazze faccio un breve riassunto dopodiché andiamo avanti allora abbiamo detto canotto a 14,90 abbiamo chiamato la fantasia con i fiori grandi astratta nera per Fiorella Savignago fantasia fiori grandi blu fuzia e nera poi fantasia marmo abbiamo la blu la verde e la nera la fantasia la fantasia invece astratta abbiamo verde blu elettrica nera e fuzia questa è la fantasia astratta e poi abbiamo un ultimo pezzo per quanto riguarda le le fantasie floreali abbiamo l'ultimo pezzo bordeaux sola soletta questa qui allora io direi di andare avanti se non c'è nessuna presunzione oltre andare avanti possiamo? ok passiamo al cardigan così lo facciamo vedere esatto avevamo già una conferma abbiamo detto che lo vuole sabbia esatto cardigan di lana addizionale perché non ce ne abbiamo altri ok allora ragazzi il cardigan di lana è una taglia unica anche qui 42 di prezzo 19,90 euro abbiamo un giro un giro seno che può andare da 120 e si allunga quanto volete ragazze veramente non è un modo di dire perché diventa proprio larghissimo se lo tirate allora quindi faccio 120 metto 180 così per si 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 vai 136 anche qui fino a oltre 160 lunghezza siamo a 84 cm allora abbiamo il color sabbia che è quello che indossa Denise lunghezza quant'era? 74 grazie poi abbiamo il nero eccolo qui cardigan nero per Angela Barboni ok te lo do tizia poi vedi se gli altri ce l'hai in altro no? si si esatto allora nella rossi l'avevi segnato ti prima? si l'ho messo marrone invece che vabbè tanto è sabbia c'è solo quello ci possiamo sbagliare blu per Carla Mura cardigan per si grazie Carla ottagno ottagno perché è blu non c'è quindi dopo può sembrare un altro colore allora ragazzi faccio vedere bene i colori questo 19,90 euro ragazze nero questo che cos'è? panna panna poi abbiamo il verde nella rossi anche nero allora anche nero perfetto ok poi fucsia celeste ottagno è quello che indossa Denise che praticamente è un sabbia ecco qui ragazze fate i vostri ordini 19,90 euro come vedete abbiamo le taschine eccolo qua chiaramente anche qui un modello bello morbido molto elasticizzato non è molto grande quindi ragazze cioè nel senso si presta molto quindi anche se lo mette spina fucsia anche se lo mette una persona più piccina grazie Manuela sinceramente veste talmente bene che guarda lo metto pure io anche perché ho freddo guardate ragazze anche su di me che sono più piccolina vedete rimane bello morbido morbidoso però alla fine l'effetto è lo stesso ok? non me lo levo io non te lo levi? no fa un frescuccio eh sì quindi quando arriva sì è bello freddo oggi allora è il vento più che altro che dà fastidio è il vento che sì allora ragazzi invece qui è solo nero pernella rossi ah quindi il sabbia non lo vuole ok? allora ragazzi adesso passiamo al pantalone il pantalone costa 19 euro e 90 panna per Maria Rosa Serra sì Silvia metti il verde vicino al mio top in raso eh pa 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 ma non mi ricordo qual'era mi sembra che era questo eccolo qui bello beh ci sta benissimo sia con questo sia con l'altro tanto il colore è lo stesso sia col marmo che con questo sì eccolo qua cardigan nero per Paola Marchetti ragazzi i colori dei cardigan sono poi disponibili eh sabbia quello che indossa Deniso poi abbiamo il nero il fucsia il celeste ottanio panna e verde eccoci qua tre e sei sette colui a disposizione ragazzi eh allora andiamo avanti allora adesso passiamo invece al pantalone che indossa Deniso il prezzo è 19 euro e 90 in viscosa però ragazzi qui sono praticamente terminati tant'è però che abbiamo gli ultimi pezzi in negozio sono finiti no questi non sono riordinabili ragazzi quindi chi prima ordina prima li prende ragazzi esattamente allora i colori disponibili sono il panna che indossa Deniso poi abbiamo il tiffani poi abbiamo il jeans il blu scuro il verde militare il sabbia 19 euro e 90 ragazzi questo è un pantalone in viscosa molto elasticizzato adesso procedo vi do anche le misure in modo tale che potete tranquillamente vita mio verde per Ilaria Matteucci grazie Ilaria va benissimo Ilaria grazie eccolo qui oh però scusa tranquilla allora abbiamo un giro vita che va da 96 fino a 140 di giro fianchi invece siamo tessuto fermo siamo a 120 tirandola arriviamo a 100 100 oltre 160 ecco quale misura ragazze attenzione perché abbiamo solo questi quattro pezzi anzi 5 con quello di Venisa questo è un problema che è andato benissimo però adesso non è più riassortibile la cannottina voleva vedere Nicoletta era questo ok Nicoletta guarda un po' eccolo qui l'effetto ha un po' di verde ci sta benissimo no secondo me ci sta ci sta quasi quasi ci sta meglio questo su questa casacca e su questa canotta ci va bene tanti colori però allora ragazzi dicevamo il pantalone in discosa molto elasticizzato ultimi pezzi presenti nero per Nella Rossi non c'è nero e quel blu scuro perché si sembra nero sembra nero dimmi se va bene blu allora Tiffany conferma Nella jeans blu scuro sabbia e quello che indossa Denise panna ragazze fate i vostri ordini sono gli unici gli ultimi pezzi ormai in negozio questo è un articolo che non possiamo riassortire Nella facci sapere se va bene un altro colore ti vado? si vai questo tammelo che me lo metto qua eccolo c'è una fame anche qua l'abbiamo ancora allora c'ho fame davvero eh l'ultimo l'ultimo cardigan verde il colito grazie grazie il colito Nicoletta costa fortissima costa fortissima sì allora che c'hai a presso? vieni ah la camicia ok ok no va bene ma che mi vuoi da un po' di cardigan si? perché quattro ce n'hai ordinato? io ce n'ho cinque che colori c'hai? allora se mi dai l'ottagno un sux al panna e uno nero eccole qua grazie prego e poi ti passo anche le casacche le casacche ti prendi quello che ha qual è? maria rosa serra non ho sentito mi hai messo il cardicampanna credo di sì vero ti? è per lei maria serra? sì 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 maria rosa sì è per te il cardicampanna l'abbiamo messo se vuoi ti prendi anche queste e mi lasci quelle che ti sei rimaste così poi faccio un riassunto alla fine eccolo qua allora vado avanti ciao tiziana grazie buon pomeriggio buona serata fucsia chiaro la spina allora Carlo adesso passiamo all'Eggins in cotone garzato tessuto elasticizzato ragazzi è un prodotto basico parliamo di 9,90 euro ok? questa però la particolarità qual è? che abbiamo i brillantini e il pizzo nella parte finale l'altra volta ce li avevamo semplici quindi fate molta attenzione ah tu ce l'hai normale vabbè i nuovi sono tutti con i brillantini quindi teniamo presente con i brillantini quindi 9,90 euro il prezzo vestibilità d'acqua 19,90 prezzo cardina 19,90 hai già messo? ah ok allora 9,90 questi sì quanti ne vuoi allora cotone garzato tessuto elasticizzato 9,90 euro è disponibile in nero poi abbiamo il grigio ecco qua ve lo faccio vedere da vicino e poi abbiamo il turchese ecco qui come vedete ragazzi la particolarità è la parte finale il turchese e il turchese volevo dire come si chiama l'uccello 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 ora l'uccello tutti qui disponibili poi magari te li dico eh l'uccello tortora tortora perché non mi sono mischiato io adesso non so dove sono mi ha fatto così come vedete ora non ci vedo io sono spanca turchese per l'italiante grande Rita nero per Enz Antonazzo si Rita a quest'ora lo vedo lo vedo turchese io si ma bisogna essere proprio strabile no non me lo dà non me lo dà dopo lo facciamo va bene va bene mi sta arrabbiata perché voglio aggiungere un cardigan allora turchese per no Gina Baldo dai voglio aggiungere un cardigan eh ma io adesso le 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 ma lei che cos'è che ha detto? vuole sapere le camicie tutti i colori che ha preso ma io non mi ricordo ce l'ho tutti mischiati Silvia ora non so dove sono Nella non possiamo vedere noi abbiamo già due carrelli di merce prenotata non possiamo andare a vedere tutte le camicie che hai preso non possiamo aiutarti in questo senso semmai domani quando facciamo il riassunto con le foto del tuo ordine te le mandiamo non te le giriamo quello che ti può essere utile come abbinamento non c'è problema tanto i cardigan li possiamo ordinare quindi vai tranquilla grazie Nella vai tranquilla Nella infatti allora ragazzi i colori che abbiamo detto dei leggings con il pizzo e i brillantini nella parte finale 9,90 euro ne ho grigio e tortora e tortora allora le misure ci chiamano e tortora allora le misure ve lo dico subito allora vita allora siamo da 88 e arriviamo a 148 ci vuole una bistecchina che fa sangue brava Valentina a questa ora sarebbe perfetta eh 88 fino a 120 non lo so mi sa che era di più aspetta non lo so mazza come voi finate tutti quanti 134 ok bianchi non si è finita eh io pure non si è finita non ci ho capito più niente veramente nomina queste cose a quest'ora 124 fino a 180 ok ecco le misure ragazze prego ragazzi ha una taglia unica una vestibilità comodissima allora neri per favore per Paola Marchetti ok allora neri grigi e tortora tortora tra parentesi turchese per me poi non ci vedo più dalla fama dovevi dire mamma mia zitto va zitto ma sono le sette che fai con le facce allora mi sta scaricando mi sta scaricando allora invece la casacca in jeans che indossa Denise turchese per l'italiante vedita ma davvero vuoi il coso no turchese dai davvero vuoi il tortora no non vuoi che magari intende allora la casacca in jeans invece io dava passatela un po' davanti uno nero per Valentina Valle Staccioni uno turchese per Sabrina Bianca Staccioni? Sabrina Bianca gli dice ma turchese è finito no no Sabrina mi sono sbagliata Valentina vuole quello nero? sì sì Valentina ti ha preso nero Sabrina turchese non c'è mai stato non c'è mai stato sono io che invece di dire tortora ho detto turchese ma turchese non c'è quindi c'è tortora grigio e nero allora casacca prezzo allora prezzo questa è una casacca in jeans è una felpetta diciamo aspetta aspetta però sono due modelli attenzione allora 29,90 euro giro seno siamo da 130 fino a 140 va bene i fianchi uguali Carlo lunghezza che la vedo che fa giù dritta 7,9 panna e salame per Nella Rossi panna e salame io sai che ho capito panna allora ragazzi la felpetta in jeans che indossa Denise abbiamo due colori mi devi dire la lunghezza però la versione scura e la versione chiara oh ragazzi 81 oh io c'è un'altra diretta ci siamo ragazzi allora ragazzi 29,90 euro una felpina carina in jeans tessuto leggero con cappuccio due versioni la con la versione scura e la versione chiara eccola qui con questa tipologia ecco qui di fantasia con la scritta argento molto carina 29,90 euro l'altra è simile l'altra versione invece stesse misure stesse misure grossomodo stesso prezzo però abbiamo un modello diverso perché praticamente anche qui abbiamo il cappuccio però come vedete una fantasia davanti colorata assunta barrisi misura vite più grande leggins no 34 non capisco non ho capito vabbè poi ne parliamo in privato assunta non so non ho capito bene cosa vuole dire forse se c'è le taglie vabbè 29,90 euro anche questa felpa bella grande sempre in jeans con però disegno davanti eccolo qui con queste ali molto molto bella 29,90 euro anche qui quindi ragazzi quella che indossa Denise due colori diversi una chiara e una scura e questa qui invece senza senza bottoni insomma più stile guarda la pizza più stile sportivo 29,90 euro non è buono qua proprio oggi è una diretta molto particolare direi nel certo è arrivato è arrivato Cacini 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 è un motore che si dice a Roma dai su 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 che manca poco su su ma quella c'ha il cervello storto no le dita allora questa qui Maria Giuliana questa qui praticamente ha questa tasca qui e questa laccetto sotto che si può anche stringere quindi è un modello che rimane un po' più sportivo mentre quest'altra come vedete avete la bottonatura qui davanti allora la casacca sportiva chiara la voglio io sono nuova per Irna Asatiani Irina Asatiani Irina Asatiani mandaci la conferma tanto tra poco siamo in chiusura di diretta ti mando il numero Irina al 338 2321 430 scrivi il tuo nome la smetti scrivi il tuo nome e cognome quello che hai prenotato e poi ti spieghiamo tutte le modalità di pagamento se non l'hai già sentita scusami Silvia ma hai presentato sia la camicia che la felpa si cioè la casacca e la felpa e che devo fare no nel caso questa signora che è nuova me la vuoi dare subito poi subito per le prenotazioni la casacca sportiva è chiara ma l'abbiamo già vista ma la felpa jeans con disegno davanti però quella dietro Nicoletta Eppolito mia felpa grigia felpa grigia mia felpa jeans con disegno davanti però scura allora Eppolito lei vuole questa si lei vuole questa Nicoletta si allora praticamente la stesso sistema dell'altra volta ti attenta con il disegno c'è chiara e scura con questa la stesso discorso si si devo solo specificare allora vorrei la casacca chiara rileggere le misure allora intanto mettimi questa su Ippolito per favore Ippolito era col disegno giusto allora io faccio casacca che sarebbe bottoni io vi metto le misure della casacca si brava Annalisa ti sta rimettendo le misure mia felpa jeans con disegno davanti scura Nicoletta la tua e questa abbiamo fatto perfetto poi Irina Asatiani allora mi ridici mi ridate le allora Annalisa Falchi si casacca chiara no rileggi le misure però dice Carlo glielo mandate già eh quindi aspettiamo la conferma ok Silvia anche quella casacca con ali fa 140 io ho perso conti Irina Irina Asatiani Irina c'era il disegno ah Michela Sestisi che vuol dire risponde a Silvia anche la casacca la domanda allora ragazze noi siamo in chiusura di diretta come sapete benissimo domani ci sarà un'altra diretta dedicata agli sconti e a tutto il mondo degli accessori presenteremo tante cose adesso siamo in chiusura ragazze fate i vostri ordini magari scrivetecelo in privato anche adesso che chiudiamo la diretta quindi la casacca in jeans è questa qui quella semplice chiara oscura e la casacca in jeans con il disegno davanti sempre chiara oscura le misure sono le stesse piuttosto grandi belle comode il prezzo non cambia 29,90 euro ok poi ah tu ti sei messa un altro outfit ok facciamo l'ultimo dai facciamo l'ultimo 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 outfit della serata ragazze attenzione quel vestito mi fa se sparì la felpa con le ali vi picchia no te l'abbiamo già messa Nicoletta tranquilla ah Nicoletta ho scritto già su facebook Irina Asatiani ci devi scrivere su whatsapp su facebook non va bene penso che abbia scritto su whatsapp vedi un po' no no ha scritto su facebook eh ma siamo su facebook già eh appunto avrà scritto su messanger ah ok perfetto come fa di cognome come si chiama Irina Asatiani io manca la vedo ecco la qua Irina Asatiani 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 così come leggo Asatiani quello leggi ciao marilena grazie cosa aveva ti ricordi ha scritto su whatsapp dice guarda un attimino ha scritto su whatsapp no lo conferma adesso adesso ha detto ha scritto su whatsapp Irina Asatiani Annalisa Falchi mi fai vedere quelle chiare? allora le chiare sono quella semplice con i bottoni e poi abbiamo la versione con le ali con le ali eccola qua due versioni ragazzi entrambe hanno il chiaro e lo scuro ok grazie Irina perfetto quindi ti ricordi qual'era la casacca di Irina? si quella chiara ma la chiara però sta qua ce l'ho io ce l'hai tu? si ecco la casacca sportiva chiara la voglio io ok sai che facciamo? la mia sportiva è quella senza senza le quelle ali è quella con le ali si casacca sportiva quella è la felpa non mi sbaglio si la felpa mi fai vedere la chiara non quella con le ali allora casacca ecco l'analisa ma non è la spina il cardigan c'è anche di altri colori allora quello che indossa Denise è rimasto allora costa 29 euro e 90 sono gli ultimi colori è rimasto l'ottanio che veste Denise poi il lilla e il sabbia sono gli ultimi colori disponibili 29 euro e 90 ciao Nella domani 29 euro e 90 chi era? chi era o scura? con la scritta argentata chiara chiara per per la nuova? si si chiara ecco l'analisa ok ok allora il cardigan l'abbiamo detto il cardigan l'abbiamo detto allora ragazzi vi lascio e sentiamo domani va benissimo ciao Nicoletta 29 euro e 90 allora il cardigan lungo bello grande fa un po' una pirouette costa 29 euro e 90 ma sono gli ultimi colori a disposizione ottanio lilla e sabbia ultimi tre pezzi e poi questo articolo per quest'anno è terminato allora adesso passiamo all'abito l'abito e poi abbiamo chiuso anche con la diretta anche perchè stiamo calando per ora di andare a fare la cena allora ragazze l'abito invece che indossa Denise questo è un abito a 29 euro e 90 è un abito a 29 euro e 90 abbiamo questa fantasia con il marrone poi abbiamo quello con i fiori rossi poi abbiamo quello con i fiori rossi la fantasia come si chiamava questa? cashmere cashmere e la fantasia maculata ecco qua e quello che indossa Denise che è una bella fantasia floreale ragazze siamo a 29 euro e 90 vestibilità fino a un 56 comodo perchè Denise vedete guardate gli sta molto morbido Denise sopra una 54 piena e che dire ragazze siamo giunti a conclusione ragazze mi raccomando ci sentiamo domani con il dettaglio dei vostri ordini vi invieremo foto e prezzi come abbiamo sempre fatto e poi continuiamo con le nostre dirette domani quella dedicata agli accessori ai saldi e dopo domani risaremo qui con Denise, Carlo e tutta la nostra squadra e ritorneremo sull'abbigliamento quindi ragazze buona sera da tutti ragazzi ci vediamo domani sempre alle 4 condividete questa diretta condividete questa diretta ciao 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 ciao